Bene, buongiorno a tutti e benvenuti ai presenti e benvenuti da chi è da remoto a questa connessione con i laboratori nazionali del Gran Sasso. Oggi abbiamo questo evento che parla di neutrini solari e massimi sistemi. In qualche modo mi fa molto piacere perché da studente, cominciando quando ero studente all'università, ho seguito un po' tutta l'epopea dei neutrini solari e quindi questa nuova visione del sole dal punto di vista di quello che è il suo funzionamento, quelle che sono le sue caratteristiche. È una storia lunga, 70 anni, perché i primi esperimenti sono degli anni, fine anni 50, iniziali anni 60 e quindi è una storia molto importante. Mi fa piacere che ci siano tanti giovani collegati perché in qualche modo il sole è stata la stella, in qualche modo è la stella che accompagna l'uomo fin dalla sua nascita. Gli egizi lo consideravano un dio. In realtà noi sappiamo che l'evoluzione scientifica ci ha portato a una visione diversa di tutto questo. E mi sembra importante soprattutto aver qui dai laboratori ripercorrere questa strada o comunque rianalizzare questa strada di questi ultimi anni in cui effettivamente siamo stati capaci, come scienziati. Io non ho mai partecipato all'esperimento di diretto solare, però li ho visti evolversi, li ho visti raggiungere dei risultati veramente importanti e noi oggi possiamo dire sicuramente di comprendere il sole a livello scientifico, a livello di com'è il suo funzionamento come stella in modo abbastanza completo. Tra l'altro comprendendo il sole comprendiamo anche tutte le altre stelle e quindi è un'informazione molto importante per tutti noi. Questo diciamo mi fa piacere appunto discutere di queste cose con tutti e presentare queste cose ai giovani che possono, spero, sono convinto, apprezzeranno quello che è stato questo studio, questa evoluzione scientifica che effettivamente ci ha portato oggi ad avere una conoscenza che fino a qualche settimana di anni fa era superstizione, se ci pensiamo oggi sappiamo invece che il sole è una stella che ha i suoi meccanismi di funzionamento e che ha il suo modo di essere interpretato. Detto questo io non voglio rubare altro tempo e penso che sia importante passare direttamente all'evento, agli speakers. Quindi introduco il professor Lucio Russo della Università di Torvergata che ci parlerà del modello eliocentrico e le origini del pensiero scientifico. Il professor Russo si è occupato di questi aspetti in molti suoi libri e documenti fatti in passato e quindi ascoltiamo cosa ci racconta e lo ringrazio per la sua partecipazione. Grazie a voi. Io sono connesso tutto a posto. Sì, sì. Dunque io volevo appunto parlare dell'origine del modello eliocentrico insomma che è più un modello che dà un ruolo particolare al sole, quindi può essere considerato all'inizio dello studio scientifico del sole. Non si sente bene, scusate. Il microfono è così adesso è meglio. Sì. Bene, allora dicevo volevo parlare dell'origine del modello del modello eliocentrico. Ora il modello eliocentrico in genere è associato no, non funziona questo. Ecco. È associato al nome di Copernico. Ma è sempre disturbato che vengono strane. Allora volevo cominciare con leggere un brano dell'epistola, la lettera dedicatoria, un po' come la prefazione dell'opera di Copernico. Copernico ha scritto una sola opera insomma, la rivoluzione, il bus sorbio, il bus celestio. Copernico scrive mi assunzi l'impresa di raccogliere i libri di tutti i filosofi che potessi avere al fine di indagare se mai qualcuno avesse opinato che i movimenti delle sfere del mondo fossero diversi da quelli che ammettono coloro che insegnano matematiche nelle scuole. E trovai così innanzitutto in Cicerone che Niceto, qui sbaglia a scrivere il nome, in realtà è Iceta, la persona che parlo, un pitagorico, aveva pensato che la terra si muovesse. Poi anche in Plutarco trovai che altri ancora erano della stessa opinione. Di qui dunque, imbattuto in questa opportunità, presi anch'io a pensare alla mobilità della terra. Ecco, quindi è chiaro che Copernico aveva scoperto la sua idea, la rivoluzione copernicana, in biblioteca, leggendo antichi libri che ne parlavano. Quindi se si vuole capire l'origine dell'eleocentrismo, bisogna fare un passo indietro di quasi duemila anni, insomma, e capire come era nata l'idea centrica. Ma io non ho capito perché questo non funziona. Ecco qua, trovo, ho riportato due passi, uno è di Archimede, dall'Arenario. Archimede scrive, Aristarco di Samo ha pubblicato degli scritti in cui assume che le stelle fisse e il sole stiano fermi, mentre la terra giri intorno al sole lungo una circonferenza che ha il sole al suo centro. Ecco, quindi si capisce chi era stato, diciamo, a proporre l'eleocentrismo. Questo è Aristarco di Samo. Ho riportato anche un altro passo di Plutarco, da un'opera molto importante dal punto di vista della storia della scienza, le fasce con enorme lune apparete, cioè sul sul volto che appare nel disco della luna. E Plutarco scrive, Aristarco di Samo ha cercato di salvare i fenomeni assumendo che il cielo sia fisso e la terra percorre un cerchio obliquo, ruotando allo stesso tempo anche intorno al proprio asse. Ecco, ha cercato di salvare i fenomeni. Questa è un'espressione dell'epoca molto usata. Significa che ha trovato una teoria da cui discendevano conseguenze coerente con i fenomeni, cioè con ciò che si può osservare nel cielo. Ecco, quali erano i fenomeni salvati da Aristarco? Ora in questa figura è rappresentato, c'è il Sole al centro e ci sono due cerchi concentrici che rappresentano le orbite della Terra e di Marte, diciamo, nell'approssimazione in cui erano considerati circolari all'epoca di Aristarco. Ora, la Terra, come tutti sanno, per fare un giro intorno al Sole ci mette un anno, questa è la definizione di anno, diciamo, mentre Marte è più lento, ce ne mette circa due. Allora, qui sono segnati con lo stesso numero posizioni della Terra e di Marte che avvengono nello stesso momento. Quindi se si congiunge la posizione della Terra con quella di Marte e si vede che succede dalla posizione 1 alla posizione 9, si vede che la retta congiungente, diciamo, Terra e Marte ruota prima in un verso e poi nell'altro. Cioè a un certo punto, siccome la Terra supera Marte nel girare, Marte appare a noi tornare indietro. Quindi il moto di Marte osservato da Terra è molto complesso, consiste in un anno di rivieni, insomma. A un certo punto il moto rallenta, poi torna indietro, poi ritorna avanti. Ecco, Aristarco aveva avuto un'idea geniale, aveva capito che questi moti complessi diventavano semplici se si cambiava sistema di riferimento, se il moto veniva riferito non alla Terra ma al Sole. E allora si poteva spiegare tutto, supponendo che il moto del pianeta e quello della Terra fossero due moti circolari e uniformi. D'accordo? Questa è un'idea a me sembra geniale. Ecco, in genere si dice che Aristarco, sì è vero, aveva proposto l'eleocentrismo, però era troppo avanti rispetto ai suoi tempi, per cui nessuno l'aveva preso troppo sul serio, insomma. Non era stato molto considerato. Ecco, io credo che questo non sia vero. Per esempio, Sesto Empirico scrive che i moti della Terra, non dice che sono accettati da Aristarco, ma o i peri Aristarco, c'è dai seguaci di Aristarco. Quindi evidentemente aveva avuto dei seguaci. Ora i maggiori astronomi ellenistici sono una serie di personaggi come Colone di Samo, Apollone di Perga, Iparco. Di alcuni di questi non sappiamo quasi nulla. Per esempio Colone di Samo è noto essenzialmente per dei versi di Callimaco, in cui dice che Colone di Samo aveva spiegato il moto degli astri. Ma che consistessero queste spiegazioni non si sa. Però sappiamo che aveva fatto dei teoremi di teoria dell'iconica che sono citati nel trattato sull'iconica di Apollone di Perga e sappiamo che Archimede lo considerava il maggiore scienziato della sua epoca. Quindi ci deve essere qualcosa di serio in questo, diciamo, deve essere un astronomo di alto livello. E beh, ma né dicono di Apollone di Perga, di cui abbiamo il trattato sull'iconica, ma non abbiamo nessuno dei libri di astronomia, né di Parco, che era il massimo astronomo dell'antichità, l'estato, abbiamo opere. E beh, sono tutti considerati in genere geocentrici, ma senza che ci sia nessun fondamento nei testi per pensare che siano stati geocentrici. Ecco, io sono convinto che fossero i geocentrici. Ho un'idea come quella geocentrica, è molto difficile da concepire. Ci vuole appunto, è un'idea geniale, come dicevo prima, però una volta che si è capito che i moti di tutti i pianeti si spiegano con un solo moto circolare dalla Terra, è anche difficile abbandonarla, secondo me, all'interno di una tradizione scientifica di alto livello, come era l'astronomia ellenistica. Quindi la cosa più probabile, direi quasi certa, è che sia stato abbandonato. Posso riprendere? Sì, benissimo. Allora qua avevo riportato un altro passo di Brutarco da un'altra opera, dalle Platonice Questiones, e questo è un passo molto importante. Brutarco dice, doveva pensare, Timeo si riferisce a Timeo, che la Terra fosse stata progettata non confinata e stabile, ma rivolgentesi e ruotante, come successivamente affermarono Aristarco e Seleuco, il primo assumendolo solo per ipotesi, e Seleuco invece mostrandolo, o dimostrandolo. Ecco qua devo fare una brevissima parentesi sul termine ipotesi. Io ho scritto ipotesi perché questa ipotesi è la traslitterazione, diciamo, del termine greco, ipotesis, ma il termine greco non aveva il significato della nostra ipotesi. Ipotesi significa fondamento, principio, diciamo, quindi l'aveva assunto come principio della sua teoria, diciamo. Che a volte viene letta questa frase dicendo, va bene, aveva fatto solo un'ipotesi, non sapeva se era vero, insomma. Io faccio spesso l'esempio che dice Teofrast, uno dei suoi trattati di botanica, che il tronco è la ipotesis degli alberi, perché regge tutti i rami. Ecco, non c'è niente di ipotetico, è il fondamento, insomma. Quindi l'aveva assunto come base del principio della sua teoria. E Seleuco invece aveva dimostrato che effettivamente era così. Quindi una prima cosa che si può trarre è che non c'erano stati solo sostenitori dell'eocentrismo, oltre a Ristarco, ma c'era stato anche chi aveva fatto dei passi avanti, ci aveva portato nuovi elementi, diciamo, a favore della teoria eleocentrica. Allora è interessante ricostruire quale può essere stato l'argomento di Seleuco, insomma, che aveva dimostrato. Ora, chi era Seleuco? Sappiamo che era Seleuco di Babilonia. Abbiamo poche informazioni. Io molti anni fa scrissi un piccolo articolo in cui raccoglievo e esaminavo tutte le testimonianze che ci sono su Seleuco. La cosa principale, sappiamo che lui sosteneva l'eocentrismo, sappiamo dal passo che ho letto prima, sosteneva che l'universo fosse infinito ed era un grande esperto di maree. Questo va avanti. E in particolare ho studiato le diseguaglianze diurne delle maree. Cioè che significa in genere ogni giorno ci sono due alte maree e due basse maree, ma le due alte maree non arrivano sempre alla stessa altezza. Certi giorni arrivano alla stessa altezza, altri giorni c'è una differenza, si chiama appunto diseguaglianze diurne. E lui aveva studiato i cicli delle diseguaglianze diurne. E le aveva osservate nel mare arabico dove effettivamente sono notevoli. E il parco, che è stato il massimo astronomo dell'antichità, quando parla di maree usa come autorità fondamentale Sereuco di Babilonia. Quindi questa è una prova che Sereuco era considerato uno scienziato serio. Ecco allora quello che volevo fare era cercare di ricostruire qual era la prova del legiscentrismo che aveva dato Sereuco di Babilonia. Ecco per fare questo bisogna premettere una storia dell'idea di gravità nel pensiero greco, in particolare del pensiero ellenistico. Ecco io parto diciamo dalla gravità secondo Aristotele. Già questo era un punto di arrivo in effetti, rispetto alle concezioni primitive in cui si pensava che la gravità fosse semplicemente una forza che spingeva i corpi pesanti verso il basso, pensando che il basso fosse qualcosa di assoluto. Ecco per Aristotele c'è un particolare luogo, un particolare punto dello spazio se volete, che ha la proprietà di attirare i corpi pesanti. Ora tutti i corpi pesanti sono accumulati intorno a questo punto e quindi questo punto è finito con l'essere il centro della terra. Ecco però non tutti i corpi sono pesanti, i corpi si dividono per Aristotele in tre categorie. Sono i corpi pesanti che appunto sono attirati verso questo centro dei pesi che è di fatto il centro della terra, poi ci sono i corpi leggeri, qua rappresentati dalla nuoletta, una figura come il fumo, il fuoco, che sono respinti da questo centro, quindi tendono ad andare verso l'alto e poi ci sono i corpi celesti che non sono né attratti né respinti e quindi possono continuare a muoversi all'infinito senza cadere sulla terra, senza allontanarsi all'infinito. Ecco questa è una concezione della gravità molto diversa da quella moderna naturalmente. Ecco in genere nei libri di storia della scienza le concezioni della gravità dell'antichità si fermano ad Aristotele insomma e poi sembra che le novità essenziali risalgono all'età moderna. In realtà si può ricostruire tutta un'evoluzione del concetto di gravità successiva di Aristotele e forse va detto che con la morte di Aristotele comincia il periodo ellenistico che è il periodo in cui c'è il grande sviluppo della scienza antica insomma. Quindi non è un caso che ci sia uno sviluppo importante dopo Aristotele anche dell'idea di gravità. Ecco una altra cosa importante, se ne parlava prima con Francesco Vessane, è che se uno vuole ricostruire tutto il filo del sviluppo del pensiero che ha portato dalla concezione aristotelica alla concezione diciamo moderna tra virgolette, cioè dalla gravità come interazione reciproca tra due qualsiasi corpi, beh questa cosa è possibile farla all'interno del pensiero antico, non è possibile farlo all'interno del pensiero moderno. Perché? Perché il pensiero moderno aveva semplicemente ereditato queste idee dall'antichità. Ecco il primo passo per superare Aristotele è dovuto ad Archimede e all'idrostatica di Archimede, al trattato di Archimede sui galleggianti. Cioè l'idrostatica di Archimede è basata su un principio di idrostatica che non è il principio di Archimede che in genere si studia a scuola. Ecco quello che si studia a scuola col nome dei principi di Archimede risale veramente da Archimede, è nel trattato sui galleggianti, ma non è un principio, è un teorema. È diventato in principio cancellandone la dimostrazione, insomma, che è un'operazione che a me non piace molto, insomma. Quindi il vero principio era quest'altro che adesso leggo. Se porzioni di liquido sono contigue e allo stesso livello, la porzione più compressa caccia via la meno compressa. Ecco qua bisogna specificare che significa lo stesso livello. Il punto di partenza di Archimede è la teoria aristotelica, ho appena detto. Quindi lo stesso livello significa la stessa distanza dal centro dei pesi, diciamo, dal centro della Terra se volete. Ogni porzione è compressa dal peso del liquido che sopra di sé in verticale. Perché il liquido non si è rinchiuso in qualcosa, è compresso da qualcos'altro. Quindi il punto di partenza di Archimede è la teoria aristotelica della gravità. Ecco, dopo che Archimede trae un primo teorema di mostra sulla base di questo principio. E il teorema molto interessante, secondo me, io lo farei studiare in tutte le scuole secondarie, è che afferma che la superficie degli oceani in condizioni di riposo è una superficie sferica che ha per centro il centro della Terra. E la dimostrazione è fatta per assurdo. Cioè se a riposo la superficie degli oceani non fosse sferica, allora vi sarebbero due punti, come i punti A e B in figura, che supponiamo all'interno delle masse oceaniche, diciamo, che sono sovrastate da colonne d'acqua di diversa altezza. Beh, allora in questo caso A è sovrastata da una colonna d'acqua minore dalla colonna d'acqua che sovrasta B. Quindi B è più compresso. L'acqua in B è più compressa che è in A. Ma allora siccome in base al principio la parte più compressa deve cacciare via l'altra e quindi non ci può essere equilibrio. Quindi se c'è equilibrio, per definizione, significa che questo non accade. C'è la superficie dell'essere sferica. Ecco, il teorema di Archimede riguarda solo gli oceani, anche perché il trattato in cui appare, che è il trattato sui corpi galleggianti, riguarda l'idrostatica, insomma. Però era nota già dal secolo precedente, fin dall'epoca di Parmeni, della forma sferica della Terra, nel suo complesso, anche nella parte solida. E allora se si sa che la Terra è sferica tutta e poi si conosce il teorema di Archimede, è naturale pensare che la Terra abbia assunto la sua forma sferica in un lontano passato in cui era stata fluida. E infatti Diodoro Siculo all'inizio della biblioteca storica, Diodoro Siculo scrive questo trattato di storia universale, se volete, quindi comincia proprio con poche frasi sull'origine della Terra, insomma. E dice che la Terra inizialmente era semifluida e ha raggiunto la sua forma grazie alla gravità e poi si è solidificata. La stessa affermazione in Plinio. Quindi l'idea che la Terra abbia raggiunto la sua forma quando era fluida è ben documentata. Ecco, quella che è la mia ipotesi, la mia congettura, è che sia dovuto al teorema di Archimede, ma mi sembra molto plausibile. Ecco, ora il teorema di Archimede ha delle importanti conseguenze astronomiche. Perché Archimede era partito dall'idea aristotelica della gravità, quindi c'è un solo punto dello spazio che attila i pesi, che è il centro della Terra. E per anno aveva diritto tutto il teorema che la Terra diventa sferica perché proprio in base diciamo alla forza peso. Ora è facile rendersi conto che anche il Sole e la Luna sono sferici. E allora è naturale pensare che lo siano per lo stesso motivo per cui l'è la Terra. Ma se è così non ci può essere un solo luogo dello spazio che attira tutto. Al centro del Sole ci deve essere anche qualcosa che attira le parti del Sole. Al centro della Luna ci deve essere qualcosa che attiva le parti della Luna. Ecco, di nuovo questo nesso logico, diciamo, è una ricostruzione mia, però il passo successivo è documentato. Cioè c'è questo passo di Prudarco ancora, sempre nelle face, che dice come infatti il Sole attira a sé le parti di cui consiste, così anche la Terra accoglie come appartenente a sé, la pietra che tende naturalmente verso il basso. Cioè nella fonte di Prudarco, tenete presente che Prudarco non è uno scienziato, quindi a noi interessa dal punto di vista della storia della scienza perché riporta idee scientifiche, ma le riporta in un linguaggio non scientifico. Quindi è chiaro che la fonte di Prudarco pensava a una forza che era la stessa forza che faceva sì che i sassi cadessero e facevano sì che il Sole fosse una forma sferica, perché era la forza che aveva attratto le parti del Sole tra di loro verso il proprio centro ed è quello che fa cadere i sassi verso il centro della Terra. E subito dopo l'argomento è deciso anche alla Luna. Quindi anche le parti della Luna sono attratte dal centro della Luna. Ecco quindi questo se ne può trarre un insegnamento mi sembra molto importante che quando si cominciano a dimostrare teoremi si sa da dove si parte, non si sa dove si arriva insomma. Cioè Archimede aveva scritto il trattato di idrostatica perché era interessata all'ingegnere navale, ma una volta che dal suo principio ha dedotto alla forma sferica della Terra, questa è data informazioni sia sul passato geologico della Terra, sia su perché il Sole ha la sua forma, diciamo, quindi ha dato informazioni in direzioni completamente diverse dalla motivazione iniziale che era l'ingegneria navale. Questa mi sembra una caratteristica importante della vera scienza, insomma. Ecco quindi la teoria aristotelica è messa in crisi a questo punto. E quindi si sviluppa una nuova teoria che si può chiamare teoria policentrica della gravità, in cui l'idea è quella di moltiplicare, se volete, la teoria aristotelica tante volte quanti sono i corpi celesti, perché la forma sferica la si può vedere nel caso della Terra, del Sole e della Luna, però per analogia è normale estenderla anche agli altri corpi celesti di cui non possiamo vedere direttamente la forma. Ecco, questa teoria, che poi è la teoria che sarà fatta proprio da Copernico, insomma, è esposta abbastanza chiaramente sempre da Plutarco in un'altra opa, il De Defecto Horacolorum. E Plutarco scrive, essendovi più mondi, in ciascuno è un proprio centro, con un moto proprio a ciascuno, con alcune cose che si muovono verso tale centro, altre che se l'allontanano e altre ancora che gli girano intorno. Ecco, l'ultimo passo mi sembra particolarmente interessante, insomma. C'è l'idea che ci sono corpi che possono girare intorno a ogni astro, insomma. Non so da dove può venire questa idea, però va notata, insomma. ecco, però anche l'attività cerebrocentrica fu superata. E fu superata per vari motivi, insomma. Un motivo, lo vedremo tra poco, è dall'attività delle maree, che fa vedere che, per esempio, tra la Terra e la Luna, che sono tutti e due corpi sferici, e quindi hanno ciascuno al proprio centro, qualcosa che attira, diciamo, le masse. Beh, questa attrazione non si limita a essere interna a ciascuno dei mondi, ma esiste anche un'interazione tra la Terra e la Luna, questo è dimostrato dalle maree. Le maree solari dimostrano che esiste anche un'interazione col Sole. Però non c'è solo questo, c'è anche un motivo concettuale. Io ci ho messo del tempo per capirlo, però è abbastanza banale, tutto sommato. Cioè, nella teoria aristotelica, quello che attira i corpi pesanti è un luogo dello spazio, un particolare punto dello spazio, che è affidito con l'essere il centro della Terra. Ora, il centro della Terra si può dire un luogo dello spazio, perché la Terra, per Aristotele, è ferma, naturalmente, è ferma al centro dell'universo. Ma il Sole e la Luna si muovono rispetto alla Terra. E quindi al centro del Sole non c'è sempre lo stesso luogo dello spazio, e nemmeno al centro della Luna. E allora quello che attira le parti del Sole non può essere un particolare luogo. E c'è un passo di Plutarco, sempre nel De Defecto Oraclorum, qui si discute a lungo questa cosa. E poi c'è una conclusione che è di grande importanza, secondo me, fa capire un salto logico, diciamo essenziale, verso la teoria moderna. In cui Plutarco dice, beh, quindi l'unica conclusione possibile è che ciò che attira non sia un luogo, ma un corpo. E quindi si comincia a pensare che ad attirare i corpi non siano luoghi dello spazio, ma siano altri corpi. Ecco, io credo che questo sia il salto qualitativo essenziale. Ed è un salto qualitativo appunto ricostruibile all'interno, come dicevo prima, della storia della scienza antica, ma sarebbe del tutto inconcepibile ricostruirlo all'interno della storia della scienza moderna. Semplicemente perché i moderni avevano ereditato questa idea dall'antichità, non l'avevano fatta proprio. Ecco, questo è un altro passo di Plutarco che è particolarmente importante, sempre nel De Facet. E Plutarco scrive, certo la luna è trattenuta dal cadere, dallo stesso moto e dalla rapidità della sua rotazione, proprio come gli oggetti posti nelle fionde sono trattenuti dal cadere e dal moto circolare. Il moto secondo natura guida infatti ogni corpo, se non è deviato da qualcos'altro. Perciò la luna non segue il suo peso, che è equilibrato dall'effetto della rotazione. Ma si avrebbe più ragione di meravigliarsi se se restasse assolutamente immobile e fissa come la Terra. E se restasse immobile e sospesa nel cielo, sarebbe da meravigliarsi perché non cade. E invece adesso sappiamo che non cade non perché non pesi, come avrebbe detto Aristotele, che un corpo ci resta e quindi non pesa, non ha motivo per cadere. No, la luna pesa, ma il peso equilibrato dalla forza centrifuga dovuta al suo moto di rotazione. Quindi è chiaro che nella fonte di Plutarco, ecco io credo di avere buoni motivi per pensare che la fonte ultima fosse il Parco. Adesso qua non posso dimostrarlo, però sappiamo che il Parco aveva scritto, era il massimo astronomo dell'antichità e sappiamo che aveva scritto un'opera sulla gravità, sulla forza che porta in basso i pesi. Quindi, almeno nel caso della Luna, era chiaro per questa fonte, che io suppongo che possa essere il Parco, che la gravità fosse equilibrata da quella che noi chiamiamo forza centrifuga. Ecco, non c'è la parola forza centrifuga, però c'è la rapidità della rotazione. L'idea qualitativa è chiaramente la stessa. Ecco, ora uno si può chiedere se questa idea dell'equilibrio della gravità con la forza centrifuga fosse rimasta confinata al caso Terra-Luna o riguardasse anche il moto del Sole dei pianeti. Ora, in genere, non si dice che chi nell'antichità si pensava che il Sole attirasse i pianeti con una forza di gravitazionale. E non lo si dice essenzialmente perché non c'è traccia di questa idea nell'Almaggesto. L'Almaggesto è l'opera astronomica più importante dell'antichità, quasi l'unica direi, che ci è rimasta. È stata scritta nel secondo secolo dopo Cristo, dopo che la scienza era stata abbandonata per un paio di secoli. Tolomeo cerca di riprendere il filo delle ricerche. Ma io dico sempre, non poteva che riuscirci in modo parziale, perché per fare ricerca scientifica è essenziale non solo avere una biblioteca con dei libri, ecco, Tolomeo ce l'aveva, aveva a disposizione la biblioteca di Alessandria, ma è essenziale anche la catena maestro allievo, diciamo. Se questa catena messi allievi si interrompe per un paio di secoli, come era avvenuto, diciamo, è difficile che leggendo degli antichi libri si riesca a ricostruire tutto il contenuto, insomma, si perde qualcosa di importante. Cioè si impara a fare ricerca, come dire, lavorando con una persona che fa ricerca, insomma, non si impara a fare ricerca solo leggendo dei libri, insomma. Ecco, quindi questa idea di cielo dell'interazione gravitazionale tra sole e pianeti è assente nell'almagesto. Però era presente, doveva essere presente invece nei trattati ellenistici che si sono perduti. Cioè quelli di Parco, forse anche prima di Apollonio. Perché lo sappiamo? Lo sappiamo perché troviamo questa idea in scrittori latini, scrittori latini che non erano scienziati, che capivano poco di astronomia, però avevano potuto leggere i trattati ellenistici di astronomia. Allora io volevo leggere due brani, uno di Vitruvio e l'altro di Plinio, in cui questa idea è abbastanza, traspare abbastanza chiaramente. Vitruvio dice, la potente forza del sole attira a sé i pianeti con raggi estesi a forma di triangolo. Ecco, se ho un qualche minuto, credo di sì, forse devo dire qual è l'origine di quest'idea che i raggi del sole hanno una forma di triangolo. Che se io voglio spiegare come fa il sole a curvare la traiettoria del pianeta, diciamo, facendo ruotare il pianeta intorno a sé, bisogna spiegare che il pianeta di per sé continuerebbe lungo la tangente, linea retta, per inerzia, ma c'è, ma bisogna comporre lo spostamento lungo la tangente, uno spostamento verso il sole, dovuto, diciamo, alla trazione del sole. E per la composizione di questi due spostamenti, per farla vedere, devo mostrare un triangolo, insomma. Vitruvio aveva visto questa figura e non ci aveva evidentemente capito niente. Dice, è un raggio del sole a forma di triangolo. E come se li frenasse e trattenesse quando corrono in avanti, non permette loro di avanzare, ma li costringe a tornare verso di sé. Ecco, l'idea che ci voglia una forza per curvare la traiettoria, mi sembra chiarissimo. Ecco, è importante vedere, questa è un'idea che Galileo non ha ancora recuperato. Galileo pensa che un moto circolare uniforme possa prodursi semplicemente per inerzia. Non sa che per avere un moto circolare ha bisogno di una forza verso il centro. Questa è un'idea che sarà recuperata, parte da Borelli, che è un allievo di Galileo, più compitamenti da Huygens, insomma, che calcolerà anche l'accelerazione centripetenza. E c'è un passo quasi parallelo di Plinio, chiaramente per la stessa fonte, e dice, e io forse volevo sottolineare questa cosa, in genere le persone che si occupano, diciamo, di scienza esatta antica, sono pochissime per ogni generazione. E quindi in genere non sono studiati questi passi, perché quei pochi che si occupano di astronomia antica, passano la vita a studiare l'Adomalgesto, a studiare... e non studiano Vitruvio e Plinio, perché sanno che capiscono poco di scienze, quindi le trascurano, insomma. Per esempio, Noike Bauer accenna Plinio solo per dire che non capisce niente, insomma, e non ne parla, insomma. Ecco, Plinio scrive, i pianeti sono colpiti nella posizione che abbiamo detto e sono impediti da un raggio triangolare del Sole a proseguire in linea retta. Qua è esplicito il fatto che il pianeta andrebbe in linea retta se non ci fosse la forza, quindi è una qualche forma di principio di inerzia, chiaramente. E sono tratti in alto dalla sua forza ardente. Ecco, l'ardente è chiaramente un'aggiunta di Plinio, no? Che parlando del Sole ci deve mettere che è arde, insomma. Non può prescindere da questa caratteristica essenziale del Sole. Ecco, questo è un brano di Seneca ancora più importante per capire come l'idea dell'equilibrio tra forza centrifuga e gravità fosse stata estesa anche a tutto il sistema solare, non solo il sistema Terra-Luna. Ora, naturalmente anche Seneca capisce poco di astronomia, quindi bisogna leggere attraverso Seneca quelle che potevano essere le idee della fonte, insomma. Bisogna sempre fare questo sforzo, insomma. Però è particolarmente importante questo brano, perché Seneca comincia, diciamo, abbiamo trovato chi ci ha detto, quindi sta trascrivendo una frase da un altro libro di un autore che probabilmente se ne intendeva un po' più di lui, di astronomia. sbagliate pensando che qualche astro interrompa il suo cammino o lo inverta. E qua forse bisogna spiegare ragazzi che significa questo interrompere il cammino o lo inverta. Per il motivo che dicevo prima, il moto dei pianeti visto da Terra sembra a un certo punto interrompersi e tornare indietro. Sono quelle che si chiamano le stazioni e le retrovalutazioni planetarie. Quindi Seneca chiaramente sta pensando ai cinque pianeti che si fermano e tornano indietro. Dice sbagliate pensando che qualche astro interrompa il suo cammino o lo inverta. Non è permesso ai corpi celesti fermarsi né invertire il moto. Tutti avanzano. Come una volta sono stati lanciati, così procedono. La fine del loro cammino coinciderebbe con la loro stessa fine. Quest'opera eterna a moti irrevocabili. Se dovessero arrestarsi quei corpi ora conservati dal moto a moto regolare cadrebbero gli uni sugli altri. Questa è chiaramente l'idea. Nel momento in cui si ferma la gravità non è più equilibrata dalla forza centrifuga, come aveva spiegato Plutarco nel caso di Terra e Luna e quindi cadrebbero gli uni sugli altri. Qual è allora il motivo per cui alcuni sembrano tornare indietro? Cioè a questo punto c'è l'obiezione, ma io le vedo le retrovalutazioni planetarie. E qua la risposta di Seneca non è chiarissima, però abbastanza chiara per ricostruire il pensiero. Dice l'intervento del Sole e la natura dei percorsi e delle orbite circolari disposte in modo che per un certo tempo ingannano gli osservatori impone loro un'apparenza di lentezza. Così le navi, sebbene procedono e ve le spiegate, sembrano tuttavia star ferme. E questo passo delle navi è un topo sul luogo comune della letteratura antica, serve per illustrare la relatività del moto. Ci sono stata una nave che corre lungo la costa e guardo la costa, mi sembra che la nave sia ferma e la costa si muove. E quindi è chiaro che lui sta dicendo questa apparenza è dovuta al fatto che il moto lo osserviamo dalla terra e che a sua volta si muove, come quando stiamo sulla nave e vediamo la costa che si sposta. E per capire la natura vera deve intervenire il Sole e la composizione delle orbite circolari, come dicevo io, se si compone l'orbita circolare intorno al Sole con l'orbita circolare della Terra viene quel moto complicato in cui sembra che si fermi e si torni dietro. In realtà ognuno di due è solo un moto circolare. Quindi è chiaro che la fonte è erocentrica e ha una versione dinamica dell'erocentrismo, diciamo. Cioè pensa che i pianeti girano intorno al Sole e sono soggetti a una forza di gravità verso il Sole che è equilibrata dalla forza centrifuga. Ecco, volevo leggere un passo di Newton per far capire qual è poi il legame tra queste idee antiche e le idee moderne. E questo è un passo di Newton che non è nei principi, ma è negli scoli classici. Cioè Newton aveva aggiunto i suoi principi degli scoli in cui citava i precedenti antichi delle sue idee, solo che all'ultimo momento ha deciso di non inserirli nei principi e questi scoli sono rimasti i manoscritti. Sono stati pubblicati per la prima volta in Italia nel 1981. Ecco, io credo che molti storici della scienza non hanno tenuto conto nemmeno dopo questa pubblicazione italiana. E Newton scrive, dunque, la Terra, il Sole e i pianeti tutti del nostro sistema, secondo il pensiero degli antichi, è qua abbastanza chiaro il riferimento al passo di Seneca che ho appena letto, sono reciprocamente gravi. Ecco, reciprocamente era chiaro nel passo di Seneca perché diceva cadrebbero gli uni sugli altri. Quindi la forza è reciproca. E per la forza reciproca di gravità cadrebbero l'uno sull'altro e si congiungerebbero in una sola massa se tale discesa non fosse impedita dai motri circolari. Ecco, quindi per Newton è chiarissimo che questa è un'idea che risale al pensiero degli antichi, diciamo, e mi sembra abbastanza chiaro che la fonte è proprio quel passo di Seneca che ho appena letto. Ecco, allora torniamo al problema che avevo posto prima. Cioè, qual era stata la prova di Seleuco? Seleuco aveva dimostrato che veramente la Terra gira intorno al Sole, non è solo un principio che permette di salvare le apparenze, se è proprio un fatto reale. Ora, torniamo all'analogia del sasso fatto ruoteare con la fionda di cui parlava Plutarco. Ora, se invece di far ruoteare un sasso facciamo ruotare una palla di stracce, che succede? Che la palla si deforma, si allunga nella direzione del laccio che congiunge la mano con la palla. Perché essendo tirata da due forze in direzione opposta, da una parte c'è la forza centrifuga, tra l'altro la forza del laccio con cui la tengo, queste due forze la deformano. Ora può succedere qualcosa di simile alla Terra? Ora, la Terra solida difficilmente può essere deformata, però siccome la Terra gira intorno al Sole, quindi è soggetta da queste due forze che si fanno equilibri in media, si fanno equilibri al centro della Terra, ma in posti diversi, prevale da una parte l'una e dall'altra l'altra, insomma, no? Nella parte del punto della Terra che è più vicino al Sole, prevale la forza di gravità, che è maggiore di quella che sta al centro della Terra. All'antipodo prevale la forza centrifuga. Ora, queste due forze deformano la forma degli oceani, causando le maree solari. Ora, Seleuco era stato un esperto di maree e in particolare aveva studiato il ciclo annuale delle diseguaglianze di Iurne. Ora, un ciclo annuale non può non dipendere dal Sole, insomma. L'anno è il periodo della rivoluzione della Terra intorno al Sole, insomma. Quindi, chiaramente, Seleuco conosceva le maree solari. Quindi, vi sono elementi per pensare che la prova di Seleuco si basasse sulle maree solari. Ora, l'antica teoria delle maree, come dire, era esposta in un trattato di Posidonio del primo secolo avanti Cristo. Il trattato è perduto, ma ne abbiamo varie testimonianze. La più importante è di Brisciano Lidio. E, analizzando queste testimonianze, adesso non è il tempo di fare tutta l'analisi, si può dedurre che le maree erano attribuite alle azioni sulle acque del Sole e della Luna e che ognuno dei due astri aveva la proprietà di attirare le acque verso di sé e nella direzione opposta, quindi nella parte antipodale. Ora, siccome c'era l'idea di queste due forze opposte, che erano una forza di gravità e l'altra la forza centrifuga, sembra ragionevole pensare che le azioni del Luna e del Sole fossero spiegate su questa base. E quindi tutto tornerebbe, salvo il fatto che le maree, più che dal Sole, dipendono dalla Luna. Ora, nel caso della Luna, è la Luna che gira intorno alla Terra, non la Terra che gira intorno alla Luna. E allora, come si fa a pensare che anche in questo caso c'è una forza centrifuga che agisce sulla Terra? Da un punto di vista moderno, dipende dal fatto che non è vero che la Luna ruota intorno alla Terra. E' la coppia Luna e Terra che ruotano entrambi al baricentro comune, diciamo, no? Che poi in realtà è all'interno della Terra, perché la massa della Terra è molto più grande di quella della Luna. Ora, è possibile che in Seleu che ci fosse già questa idea? Ecco, c'è un passo di Aizio, riportato nell'Oxorofi Greci, in cui si dice Seleu quel matematico, facendo muovere anche così la Terra, dice che la rivoluzione della Luna si contrappone a un moto vorticoso dalla Terra. Ora, se uno pensa a la fromboliere che lancia il sasso con la fionda di cui parlava Plutarco, oppure a un lanciatore di martello oggi, si può capire che lui non può rimanere esattamente fermo, ma si deve muovere su un piccolo cerchio, opponendosi sempre, diciamo, al proiettile, insomma, no? Perché ruota anche lui intorno al baricentro comune. E quindi, anche osservando con cura un fromboliere, poteva essere che si fosse capito che è un moto vorticoso, significa proprio un moto di piccolo raggio intorno a un centro, come al centro di un vortice, insomma, no? E la Terra, però, in questo modo, si oppone sempre alla Luna, insomma. E sempre dalla parte opposta rispetto alla Luna. Questo fa pensare che se l'Eco avesse un'autoria delle maree, che almeno in termini qualitativi fosse sostanzialmente equivalente a quella di Newton. Ecco, volevo finire leggendo un passo di Galileo, dai dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo. Ora, sapete che Galileo pensa di dimostrare la realtà dell'elocentrismo sulla base della trilha delle maree. Ora, questa idea chiaramente era venuta leggendo i passi che avevano letto prima e sapendo che Seleuco aveva fatto così. Quindi aveva studiato con cura le testimonianze su Seleuco. Cioè, come Copernico aveva recuperato Aristarco, pensava Galileo di poter recuperare Seleuco. Però ecco cosa scrive. Più è da meravigliarsi che essendo pur caduto in pensiero ad alcuni di riferirla a causa dei flussi e reflussi, i flussi e reflussi sono le maree naturalmente, al moto della terra, onde in ciò hanno mostrato perspicacità maggiore della comune, nello stringer poi il negozio non abbiano afferrato nulla. Il dire Anco, come si riferisce di un antico matematico, e l'antico matematico è chiaramente Seleuco di Babilonia, dalle parole che seguono, che il moto della terra, incontrandosi col moto dell'orbo launare, cagiona per tal contrasto il flusso e il reflussi, che è proprio quello che diceva Ezio, diciamo, di Seleuco, resta totalmente vano, non solo perché non vi è dichiarato né si vede come ciò debba seguire, ma si scorge la falsità manifesta, atteso che la conversione della terra non è contraria al moto della luna, ma è per il medesimo verso. Cioè Galileo non capisce che si contrappone, nel senso che è sempre dal lato opposto, diciamo, rispetto al centro comune di rotazione, ma pensa che Seleuco aveva pensato che i versi di rotazione fossero opposti. Ora, un errore che un astronomo difficilmente può fare, perché il fatto che la rotazione della terra sia nello stesso verso della rivoluzione della luna, fa sì che la luna appaia ogni volta con un ritardo rispetto al giorno precedente, se non apparirebbe in anticipo, insomma, basta vedere se appare in anticipo il ritardo per capire se i versi sono opposti o no. Quindi non è un errore che può fare un astronomo, insomma, direi. E però non era facile capire il passo di Ezio, bisogna dire, a difesa di Galileo, no? Non l'avranno capito nemmeno gli altri, insomma. Talché il detto immaginato sin qui dagli altri resta per il mio del tutto invalido. Quindi volevo finire con questa notazione che l'idea fondamentale del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, cioè quella di spiegare l'eocentrismo fisicamente con le maree, era un tentativo di interpretare, diciamo, la spiegazione di Seleuco di Babilonia, ma un tentativo non riuscito, purtroppo, insomma. Io finirei qua. Bene, ringrazio molto il professor Russo per questo escursus veramente interessante che copre tutta... No, tutto il periodo, diciamo, beh, è molto interessante, io non conoscevo questi aspetti, per cui devo ringraziare per il fatto di aver coperto quello che era un qualcosa che ovviamente mi ero scuro. Quindi l'uomo si interessa di questi aspetti legati al sole, alla terra, da parecchio tempo, e noi lo interpretiamo come, diciamo, una questione moderna, tra virgolette, dagli ultimi 4-500 anni, ma in realtà è un problema che si è posto l'uomo da molto tempo a questa parte. Molte grazie ancora. Grazie a voi. E continuiamo con le successive presentazioni, quindi la prossima presentazione sarà quella di Francesco Vissani, collega qui dei laboratori del Gran Sasso, che ci racconterà la lunga avventura con come abbiamo compreso la stella sole, in qualche modo. Grazie Francesco per la parola. Ci faccio. 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 Come? Con le frecce? Come cambia? Sì. quindi mentre la regia si collega io ringrazio tutti saluto i numerosi amici collegati quelli in sala saluto le scuole qui parleremo del tentativo di entrare nel sole cioè di capire cosa c'è dentro che chiaramente è difficile e mette in gioco delle idee supplementari oltre a quelle dell'astronomia l'astronomia indesa come osservazione dei corpi celesti iniziamo però proprio di nuovo dall'antica Grecia iniziamo da un filosofo che qualsiasi studente di luceo ha sentito cioè Platone che nel suo dialogo leggi fa dire all'atenese che poi era lui queste parole che leggiamo qui se anche noi esibissimo le prove dell'esistenza degli dèi citando come esempio di realtà divine il sole, la terra, la luna quei sabientoni ci risponderebbero che queste cose non sono altro che terra e pietra quindi questa è chiaramente una una severa critica basata sulle idee precedenti degli egiziani e dei babilonesi con chi ce l'aveva Platone ce l'aveva con Anasagora che era un filosofo precedente a lui è il primo dei cosiddetti pluralisti quelli diciamo che includono il notissimo Democrito ma anche il nostro Empedocle Leucippo maestro di Democrito che aveva per l'appunto proclamato quest'idea qui vedete per esempio nella Treccani la famosa enciclopedia italiana che fu coinvolto in un processo fu processato per impietà per aver sostenuto che il luna e il sole fossero fatti di terra e pietra cioè delle stesse cose che vedevamo intorno a noi quindi questo fu condannato e lui riuscì a fuggire però questa è un'altra storia ora quindi diciamo andando facendo un grosso saldo in avanti quindi arriviamo all'Ottocento questo è uno dei filosofi che hanno dato inizio al positivismo quindi questa tendenza rinnovatrice di considerare solamente le cose di cui possiamo fare diretta esperienza come note assodate che su questo trattato sulle stelle Comte Gust Comte scrive che possiamo studiarne le forme i movimenti quello che è stato appena discusso ma non riusciremo mai a studiare nella composizione chimica perché non riusciremo mai a mettere le mani sopra alla materia stellare quindi l'affermazione ha diciamo qualche carattere di buon senso però però non è quello che risulta dalla scienza e penso che ho bisogno d'aiuto di Fabrizio perché qui si è bloccata la ok il motivo è questo perché praticamente un'osservazione fatta qui sulla terra sui singoli elementi chimici che con fatica erano stati isolati mostra che ognuno di essi esposto alla fiamma ha un colore diverso questa è una cosa di cui tutti abbiamo esperienza per esempio con i fuochi di artificio quei bei colori che vediamo vengono selezionati scegliendo una contaminazione di questo o di quell'altro elemento e questa cosa ha anche un carattere molto diciamo dettagliato perché scomponendo la luce di ognuno di questi elementi e guardandola con attenzione con un prisma come è stato fatto per la luce solare già in tempo passato scopriamo che ogni elemento ha una propria foce una propria firma no? qui vedete queste righine che corrispondono alle specifiche lunghezze d'onda o frequenze che vengono emesse dagli elementi riscaldati quindi possiamo identificare per esempio l'idrogeno dalle righe a cui da luogo la stessa cosa per l'elio eccetera per tutti gli elementi quindi è un lavoro di pazienza di uscire ad esumere la composizione degli elementi che diciamo costituiscono un certo corpo riscaldato studiandone per l'appunto i colori emessi lo spettro come si dice tecnicamente però come vedete nel 1914 quindi siamo poco meno di un secolo fa ancora c'era Russell che è uno dei più grandi astronomi moderni che tutti quanti conosciamo per il il diagramma di Esprung-Russell sosteneva che la terra fosse fatta di terra e pietra quindi vedete che l'idea di Anasagora che aveva portato a uno sviluppo della scienza è diventato un ostacolo cioè insistere irrigidendosi con questa idea che per l'appunto all'inizio era una proclamare che forse la materia di questi corpi celesti non fosse divina ma insomma la stessa materia che vedevamo intorno portata all'estremo diventa un ostacolo no? come sapete questo non è vero e questo viene capito solo successivamente una ventina d'anni una decina d'anni dopo da quest'astronoma Cecilia Pine Kaposchkin che conoscendo non solo facendo il lavoro d'astronoma ma conoscendo la scienza dell'emissione della luce cioè la teoria di Bohr in particolare di poco precedente a lei riesce a proclamare per la prima volta che il sole fosse fatto principalmente di idrogeno e di elio quindi quel diagramma che vedete vicino che per l'appunto è il diagramma di Espron Russell quello che vedete a destra è considerato spesso insomma la firma delle stelle però ha dietro di sé questa astronoma che tra l'altro ebbe come controrelatore proprio Russell che gli impedì che la impedì di scrivere con più chiarezza questa cosa però lei incluse la tabella con i suoi risultati e per questo oggi possiamo darle credito di questo grande e importante risultato ora vediamo però di elaborare il punto e di capire adesso come funziona il sole quindi sulla composizione abbiamo un po' fatto qualche osservazione e adesso vediamo come si sono evolute le nostre ipotesi le nostre idee su come il sole funzioni quindi qui vedete una foto del sole con delle macchie che tutti ricordiamo sono state osservate da Galileo ma Teofrasto nominato poco fa da Lucio Russo ne parlava già e ne aveva scritto una domanda che diciamo nasce in questa visione del sole come un oggetto fatto della stessa materia di cui è fatta la terra o le cose intorno a noi e come funziona e quanto durerà quindi questa domanda diciamo che è impossibile da formulare credendo che il sole sia una una divinità invece diventa formulabile e oggi diciamo con il linguaggio che ogni studente di scuola superiore conosce e che diciamo abbiamo messo a punto nell'ottocento possiamo formulare la domanda in questi termini l'energia che il sole possiede che indico col simbolo E è pari al tasso di consumo dell'energia la cosiddetta luminosità come si dice in astronomia o potenza se volete come si dice in fisica per il tempo che il sole durerà e come diciamo lo spazio percorso è uguale la velocità per il tempo ecco quindi questa equazione diciamo ci permette di mettere in relazione il tempo di vita del sole con l'energia che esso possiede quindi rispondere alla domanda quando durerà il sole è diciamo in diretta relazione con l'energia che esso possiede stante il fatto che la potenza erogata dal sole la possiamo misurare la possiamo osservare e quantificare quindi la prima ipotesi quella più naturale è che il sole per l'appunto funzioni con gli stessi meccanismi che conosciamo dalla nostra esperienza quotidiana che per esempio bruci ora è un esercizio che lascio agli studenti guardando su wikipedia dove volete quanta è l'energia sviluppata da un litro di gasolio benzina o quello che volete verificare che se il sole fosse fatto di benzina e di ossigeno ce ne vuole parecchio tra l'altro non durerebbe più di qualche migliaio di anni quindi dovete calcolare quel valore e ed esumere poi quel tempo t che risulta solamente dipende di poche migliaia di anni che è una cosa che diciamo possiamo subito escludere sappiamo che abbiamo che so gli elefantini mummificati in Siberia che hanno 50.000 anni un'ipotesi che viene invece avanzata nell'ottocento che in qualche modo partiva dalla teoria meteoritica di formazione non solo della terra ma anche del sole che per l'appunto presupponeva che terra e sole fossero fatti di terra e pietra assumeva che fossero i corpi che cadevano sul sole a riscaldarlo quindi tramite attrito tramite forza gravitazionale quindi per esempio Kelvin il famoso Kelvin quello della scala termometrica assoluta era un fautore di questa teoria e aveva facilmente mostrato che il sole potrebbe vivere così decine di milioni di anni però a detta del naturalista Charles Darwin i processi geologici che si rivolgevano sulla terra cioè l'erosione continua delle rocce e anche quelli biologici non avrebbero potuto svilupparsi in meno di qualche centinaia di milioni di anni quindi un tempo almeno dieci volte più grande di quello stimato da Kelvin ora qui vediamo diciamo l'affermazione che lo stesso Kelvin fa in un suo articolo in un passaggio polemico cosa dovremmo pensare di quelli che credono che la terra abbia almeno 300 milioni di anni e quei quelli non citati esplicitamente erano per l'appunto Darwin che qui vediamo in una caricatura dell'ottocento perché come sapete le sue idee non furono facilmente accettate non lo sono neanche oggi un passaggio molto buffo è che il naturalista scrisse questa frase nella prima edizione dell'origine della specie ma poi intimidito dall'autorità scientifica di Kelvin decise di espungerla di toglierla e quindi non la troviamo più nelle edizioni successive e lui disse chissà magari Kelvin c'ha ragione però il prossimo passaggio avviene proprio alla fine dell'ottocento quando si scoprono dei fenomeni di emissione di raggi di altissima energia mai visti prima cioè erano fenomeni che in qualche modo esulavano dall'ambito esperienziale della chimica con cui ci si era invece familiarizzati quindi vediamo qui Henri Becquerel e Pierre Marie Curie che fanno queste loro prime osservazioni proprio alla fine dell'ottocento quindi a questo punto esistono dei fenomeni che sono diversi da quelli per esempio che danno luogo alla combustione di cui abbiamo parlato prima in connessione alla benzina quindi la radioattività questi fenomeni che riguardano alcune particolari sostanze e l'uranio in particolare dimostrano che esistono delle enormi sorgenti nel cuore della materia cioè in alcune sostanze è possibile che esistano diciamo fenomeni molto più energetici di quelli che la chimica aveva osservato e a questo punto si inizia a capire che forse Darwin non aveva torto e invece Kelvin lo aveva è molto buffo qui notare un passaggio di Ernest Rutherford che è un notissimo fisico che tutti sicuramente conoscono a scuola e questo articolo pubblicato sul New York Times si intitola il giorno del giudizio e rimane dato che significa? Significa semplicemente che siccome abbiamo scoperto una sorgente di energia molto più intensa possiamo attribuire alla Terra una vita ancora più lunga quindi c'è un passaggio molto buffo proprio all'inizio di questo articolo che dice le parole di Kelvin per cui non potremo godere di luce e calore a lungo diventano profetiche quando alla fine se ne aggiunge a meno che non siano state approntate fondi di energia sconosciute nel grande scrigno qual è il motivo per cui c'è questa diciamo chiamiamola così piaggeria nei confronti di Kelvin o William Thompson il motivo è che William Thompson era vivo ed era vicino a Kelvin a Rutherford mentre Rutherford era un giovane studente appena arrivato dalla Nuova Zelanda quindi diciamo piuttosto che riconoscere il merito di Darwin e trova il modo di non riconoscere il demerito di Kelvin quindi questo è un po' buffo ma è anche parte dell'evoluzione del pensiero umano qui vediamo invece Rutherford un po' più grande che ospita nel suo laboratorio un giovane chimico inglese Soddy che osservando attentamente la chimica delle trasformazioni degli elementi radioattivi in particolare dell'uranio capisce che gli elementi chimici non rimangono sempre tali cioè quindi nell'uranio succede che pian pianino l'uranio diventa radio e poi piombo e l'affermazione che Soddy fa quindi come il primo chimico che scopre che gli atomi non sono per sempre è di pieno sconcerto lui dice Rutherford ma questa è una trasmutazione quindi quello diciamo che avevamo come dire escluso da un'interpretazione fantasiosa dell'alchimia e la risposta di Rutherford è molto interessante non chiamarla così Soddy per la miseria ci chiameranno alchimisti ci faranno fuori quindi Rutherford dimostra un'intelligenza chiamiamola così sociale e politica capendo che doveva presentare queste idee con più cautela per evitare che la forma che queste idee che pure sono quelle oggi diciamo riconosciute fosse malinterpretata è molto buffo che qualche anno dopo nel 1977 Rutherford stesso decide che questa metafora è ormai sbolognata e quindi scrive un libro il cui titolo per l'appunto è la più nuova alchimia quindi lui riconosce che ormai non è più pericoloso diciamo recuperare certi riferimenti culturali dunque adesso che abbiamo un po' consolidato e capito o abbiamo supposto qual è l'ipotesi alla base del modello del sole passiamo invece a parlare di come questa ipotesi poi si prende forma nel pensiero scientifico moderno cioè una prima cosa che voglio dire a passando non resisto perché è veramente molto bella è che dagli anni 60 sappiamo che il sole vibra e dallo studio di queste vibrazioni siamo riusciti ad esumere la composizione e anche il comportamento interno del sole un po' come facciamo in medicina con l'ecografia o come dallo studio dei terremoti riusciamo a studiare cosa c'è all'interno della nostra terra e una cosa molto bella che è stata imparata e su questa vorrei attirare la vostra attenzione è che mentre diciamo sappiamo che la superficie del sole ruota a velocità diverse quindi nella zona più vicina all'equatore solare la velocità è più grande mentre andando verso i poli è più lenta a una certa profondità il sole ruota in blocco come un blocco unico questo è una evidenza chiamiamola così osservativa del nucleo solare cioè di una regione in cui c'è una uniformità di comportamenti e quello lo vediamo da quella figura a destra che ho tratto da wikipedia quindi questa cosa del nucleo solare non è una pura ipotesi nel senso moderno ma è una cosa con con basi osservative questa figura che forse avete visto è una rappresentazione schematica di quello che abbiamo imparato sul sole come vedete c'è una parte esterna che è quella dove alloggiano le macchie solari in cui ci sono dei modi convettivi un po' come il ribollire dell'acqua in una pentola e c'è quella zona interna invece il nucleo solare che è quella che ci interessa di più per la discussione di oggi quindi questo modello teorico del sole che abbiamo ottenuto mettendo insieme le idee i fatti osservativi è quello di cui parleremo si ritiene dunque che nel centro del sole che è la zona più calda avvengano delle trasformazioni tra nuclei atomici simili a quelle che avevano sconcertato tanto Soddi e sono quelle che alla fin fine producono la luce e il calore del sole che noi osserviamo quindi questo il modello moderno del sole è merito di un astrofisico americano che è John Bacol John Bacol negli anni 60 ha messo insieme tutte le idee che avevamo sul funzionamento del sole ed è arrivato alla conclusione a produrre un modello che poi rappresentato graficamente somiglia a quello che abbiamo visto prima in un lavoro che lui scrive nel 64 che è la data in cui sono nato quindi sono circa 60 anni fa lui dice che questo modello può essere controllato cioè la validità di questo modello può essere sottoposta a verifica in che modo vedete in basso l'osservazione è interessante provare a verificare direttamente la correttezza di queste nostre idee che abbiamo sviluppato idee teoriche la parola chiave è quella in cima no? dobbiamo provare a rivelare i neutrini solari quindi adesso discuteremo cosa sono questi neutrini e come mai siamo arrivati a considerarli così importanti e questo è l'ultimo piccolo viaggio nella storia in compagnia di scienziati moderni ora fino agli anni venti si credeva che i nuclei del sole di cui assumo ogni studente di scuola superiore sia informato fossero composti dalle uniche particelle le uniche parti di materia che all'epoca erano note cioè protoni che sono circa duemila volte più pesanti degli elettroni e hanno cariche una opposta all'altra ora questo modello mentale per esempio che vedete che rappresento qui nel grafico a sinistra per indicare un nucleo di trizio cioè quella specie di idrogeno pesante che ha la stessa carica chimica dell'idrogeno ma ha una massa tre volte superiore per colpa del fatto qui ipotizzato che ci siano tre protoni permette di spiegare che è possibile che un elettrone sia espulso e quindi si dia luogo alla cosiddetta radioattività con espulsioni di elettroni o come si dice in gergo radioattività di tipo beta è solo un nome ora quello che non va in questa diciamo conclusione è questo gli elettroni in questo modello dovrebbero avere sempre la stessa energia perché avendo una massa iniziale fissata e masse finali fissate l'elettrone dovrebbe portare via sempre la stessa energia e questo non è vero diciamo dalle osservazioni noi vediamo e riconosciamo che l'elettrone qualche volta ha più energia qualche volta meno questa cosa venne il tentativo che venne fatto da Wolfgang Pauli che forse ricorderete per lo spin che studiate a chimica in terzo anno superiore il modello venne complicato ma reso coerente con le osservazioni postulandoli supponendo che nell'interno del nucleo atomico ci fosse una terza particella che però doveva avere un carattere veramente buffo quella di essere quasi invisibile quindi questa particella era il ladro di energia che spiegava il fatto che l'elettrone possedesse alle volte meno energia e questa particella è quella che oggi chiamiamo neutrino in questo modo cominciamo a parlare di neutrini ora però qualsiasi studente di scuola superiore riconosce che questi modelli del nucleo atomico sono diciamo non corrispondono a quelli moderni e vorremmo dire sono anzi sono sbagliati chi fu il primo a chiarire questo punto fu tre anni dopo Pauli fu il nostro Enrico Fermi oggi sappiamo che i nuclei sono fatti non di elettroni protoni bensì di protoni e protoni neutri o come li chiamiamo neutroni ma questa non fu tanto una scoperta diciamo del pensiero teorico ma una presa d'atto del fatto che il neutrone esisteva quando il neutrone fu scoperto quindi di nuovo alle volte il progresso della scienza viene dalle osservazioni alle volte viene da un pensiero organizzato e strutturato come quello appunto che chiamiamo scientifico Enrico Fermi mette insieme i pezzi di questo puzzle nel 1933 e suppone che il neutrone sia si possa spontaneamente trasmutare in tre particelle ecco questa è una cosa che mostro con questa figurina che per ogni per ognuno di noi che lavora in fisica o in fisica nucleare è una cosa abbastanza ovvia ma voglio voglio sottolineare che è veramente inquietante per chi la vede per la prima volta perché come vediamo abbiamo all'inizio un neutrone poi il neutrone è scomparso proprio come avrebbe detto il povero Soddi e compaiono tre nuove particelle per così dire dal nulla questo però per quanto sia diciamo antipatico da accettare è il miglior schema che abbiamo per descrivere i fatti relativi alle trasformazioni radioattive quindi come vedete in questa trasformazione non solo un elettrone viene rilasciato assieme a un protone quindi la carica elettrica iniziale è zero ed è zero anche la fine ma questa trasformazione viene accompagnata dalla emissione di questo neutrino o antineutrino che sia quindi il ladro invisibile c'è per l'appunto il neutrino esiste davvero e questa cosa venne verificata mettendo insieme di nuovo considerazioni teoriche e considerazioni osservative fu uno studente di Fermi Vic che notò che se l'elettrone veniva assorbito da un nucleo atomico come vediamo in questa figura quello che può succedere è che alla fine abbiamo l'espulsione di un nuovo nucleo con carica diversa e accompagnata dal neutrino questo per esempio fu una delle tante verifiche che venne fatta nel 42 che cominciò a convincere le persone che il neutrino era una cosa vera vediamo poi nel caso del centro del sole a quale reazione ci riferiamo una delle reazioni è questa cioè il sole come abbiamo detto è formato di idrogeno e quindi i nuclei di idrogeno o protoni secondo la teoria di Fermi si possono tra di loro fondere formando un isotopo dell'idrogeno cioè il deuterio che come vedete qui rappresento fatto di una di una sfera rossa ed una nera perché quella rossa è un altro protone e quella nera è un neutrone e per compensare la carica elettrica che valeva due unità all'inizio c'è un'emissione di un anti-elettrone quindi con carica elettrica positiva ma c'è anche un neutrino ecco questa è la reazione più fondamentale più di base che permette al sole di brillare quindi la trasformazione dell'idrogeno in deuterio è l'inizio di una catena di trasformazioni di cui parleremo meglio con l'amico Nicola Rossi che però portano al rilascio di neutrini siamo quasi alla fine di questa chiacchierata se Fabrizio mi aiuta ecco quindi come evidenzio qui diciamo non solo c'è una grande energia cinetica che poi dopo si convertirà in temperatura in calore in luce del sole ma questo neutrino è inevitabilmente prodotto in questo tipo di reazioni quindi la prova che John Bacol suggeriva di effettuare era proprio quella di cercare di catturare qualcuno di questi neutrini sulla terra quindi l'idea di massima è questa come vedete qui rappresento di nuovo il centro del sole schematicamente sulla sinistra e mentre la luce non può emergere immediatamente dal sole ma deve fare queste traiettorie tortuose nella quale è perdendo energia perdendo diciamo abbassando la sua temperatura pian pianino si converte dalla temperatura altissima che c'è nel centro del sole di molti decine di milioni di gradi a quella della superficie invece il neutrino per la sua diciamo caratteristica di essere quasi invisibile riesce immediatamente ad emergere dal sole quindi tanta luce tanti neutrini c'è una corrispondenza tra la luce che misuriamo e che osserviamo che la teoria ci garantisce che tanta luce tanti neutrini e il nostro Bruno Pontecorvo un altro dei ragazzi di via Panisperna nel 45 46 dal Canada formula questa domanda possiamo mica vedere questi neutrini quindi questa proposta questa idea è precedente a quella di John Bacol però lui per la prima volta si domanda possiamo verificare la teoria del sole che abbiamo faticosamente messo a punto osservando questi neutrini e la risposta è come diciamo vorrei qui anticipare è che Nicola Rossi ci spiegherà in dettaglio e sì l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto con l'esperimento Borexino quella reazione che vi ho poco fa mostrato è stata per la prima volta al mondo osservata proprio dai nostri amici dell'esperimento Borexino che vedete qui rappresentato sulla sinistra mentre sulla destra vedete le unità di funzionamento che poi Nicola ci racconterà e quindi io ho finito qui vi lascio alcuni siti per approfondire questa discussione e lascio la parola a Nicola grazie abbiamo qualche minuto sei stato molto nei tempi se c'è qualche domanda anche da remoto non so se si può fare su questa presentazione abbiamo un po' di anticipo qui in chat scrivo le domande in chat possiamo rispondere perché diciamo hai fatto un escursus molto interessante in realtà la storia dei modelli solari inizia intorno agli anni 30 perché in realtà Bete comincia a studiare questa parte Babacol ne fa la sintesi totale negli anni 60 però l'uomo si porta dietro questa storia del sole diciamo tra la fine degli anni 20 inizio anni 30 quando si comincia a discutere è interessante tu hai citato prima Paoli è interessante storicamente ricordare come Paoli annuncia questa sua idea del neutrino a una conferenza la famosa conferenza in Germania se non ricordo il luogo Tübinga esatto Tübinga è quando lui mi manda la lettera dicendo cari cari radioattivi cari uomini e donne radioattive pensando al fatto che era gente che stava radioattività la mia proposta è che quella mancanza di calore che c'è possa essere dovuta a un neutrino e dice pure che non si presenta che non sarebbe andata alla conferenza perché la sera prima aveva fatto tardi è una festa danzante ed era non particolarmente in forma e quindi non si presenta alla conferenza a discutere ma manda questa lettera quindi questo è un aneddoto c'è qualche domanda? allora dicono se potessimo scoprire il segreto della materia potremmo crearla ma ci servirebbe sempre una materia alla base più che una domanda è un'affermazione sì allora è un punto molto bello perché l'ho discusso proprio qui qualche tempo fa ci sono delle idee di Majorana di creazione di materia e noi stessi qui al laboratorio siamo alla ricerca di una transizione che verificherebbe diciamo in un certo senso la creazione di materia anche se diciamo la cosa ci avrebbe un interesse enorme dal punto di vista scientifico temo che al momento siamo molto 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 lontani per dal come dire renderla di utilità pratica quindi questo diciamo è un punto interessante se poi mi scrivete per favore vi racconto qualche dettaglio in più e vi do qualche riferimento a proposito parlo di quelle cose che in gergo chiamiamo disintegrazione doppio beta senza neutrini oppure diciamo con altre parole sì quindi questo è molto interessante la cosa il meccanismo di funzionamento del sole quello che abbiamo visto queste trasformazioni però proprio come hai appena detto sì assume una conservazione dell'energia e della materia quindi possiamo convertire per esempio la differenza di massa e tra mettiamo i due nuclei di idrogeno i due protoni iniziali nel deuterio finale in energia questo è quello che succede e succede anche in altre trasformazioni nucleari quindi sì non possiamo fare la cosa gratis certo la diciamo la produzione di energia per esempio viene da quella di materia e c'è una cosa simile anche all'inverso sì ne possiamo parlare sono molto contento di questo va bene molte grazie grazie Francesco passiamo alla presentazione successiva da parte di Nicola Rossi che ci parlerà di astrofisica astronomia e l'esperimento Borrexino eh ti dico quando ti dico un po' prova prova ok quindi parleremo eh nel dettaglio come rivelare questi neutrini che vengono dal sole che ci hanno permesso di capire come funziona il sole e in particolare come l'abbiamo fatto in uno degli esperimenti che si trovava eh proprio qui al laboratorio che adesso è in fase di smantellamento che si chiama Borrexino e poi vedremo che cosa c'entra Borrexino con l'astronomia perché siamo partiti dal sistema eliocentrico quindi da questa idea antichissima che ha superato tante difficoltà nella storia per essere accettata e come eh quest'idea è tornata di nuovo di recente in un articolo che abbiamo pubblicato proprio utilizzando gli ultimi dati a fine dell'anno scorso eh per prima cosa allora ho portato il sole dai lo diciamo in maniera scherzosa così oltre agli studenti faccio divertire anche i miei colleghi eh perché ho portato questa palla perché prima di tutto per capire quanti neutrini vengono messi dal sole e che incredibile sorgente di energia è il sole dobbiamo rapportarla a qualcosa di umana a una dimensione eh di cui siamo familiari e quindi ho scelto un oggetto una palla che è grande circa un metro un po' più piccolo vabbè è irrilevante per quello che ci interessa eh noi capiamo le cose soltanto quando le rapportiamo alla nostra scala noi già se saliamo sopra una montagna e vediamo il panorama addirittura se andiamo su un aereo restiamo sconcertati sorpresi dalle enormi distanze che sono diverse da quelle di cui facciamo esperienze tutti i giorni è qualcosa che ci meraviglia e ci sconvolge allo stesso tempo eh noi riusciamo a capire solo pochi ordini di grandezza nel microscopico e nel macroscopico rispetto al metro quindi supponiamo che questo è il nostro sole quanto è grande la terra rispetto al sole eh la terra è così piccola che l'ho messa in tasca e in proporzione sappiamo che la terra è circa l'un per cento quindi un centesimo del sole quindi è questo piccolo cecio ok questa è la dimensione vedete come siamo piccoli se uno avesse saputo queste dimensioni avesse riflettuta in realtà qualche idea e qualche stima da ristarco di Samo c'era sulla dimensione della terra e del sole ma come vi veniva in mente di mettere la terra al centro dell'universo sarebbe stato qualcosa proprio di non accettabile proprio per una legge di proporzione e di relazione tra gli oggetti questo oggetto vediamolo dove lo andiamo a collocare ma più piccolo della terra c'è la luna e questo non è un fatto assolutamente intuitivo perché noi luna e sole li vediamo della stessa dimensione nel cielo e questo è qualcosa di è una coincidenza straordinaria in teoria non c'è nessuna motivazione per cui questi oggetti ci appaiono più o meno della stessa diametro angolare tant'è che luna e sole si sovrappongono perfettamente quando ci sono degli dell'eclissi ok anche se spesso a seconda delle distanze relative del fatto che le orbe non sono esattamente circolari ci può essere le ellisse scusate le eclisse annulari in cui addirittura vediamo un piccolo bordo in eccesso del sole eccetera allora rispetto al cecio la luna è circa un quarto quindi è un grano di pepe quindi essenzialmente molto molto piccolo rispetto alla terra la luna si trova a circa 20 centimetri in questa scala di proporzioni sono circa un poco più di un secondo di luce 400.000 km ma noi li vediamo uguali abbiamo detto quindi che vuol dire che se io mi metto questo cecio a distanza di 20 cm dall'occhio devo prendere questa palla e portarla molto lontana affinché mi appaia dello stesso diametro angolare del sole e scopre che facendo questo esercizio non riusciamo a farlo probabilmente dentro questa stanza perché viene circa 100 metri che è la famosa unità astronomica 150 milioni di chilometri ok che è la distanza che ci separa quindi questo cecio che la posizione della terra lo devo andare a mettere fuori da questo edificio più o meno nel parcheggio a 100 metri di distanza queste sono le proporzioni del sistema solare che è veramente qualcosa di incredibile di cui assolutamente non è intuitivo accorgersene semplicemente guardando gli oggetti astronomici che ci appaiono durante il sole ma capiamo una cosa importante che il sole è un oggetto enorme è una fornace enorme e se noi riceviamo così tanto calore sulla terra immaginate quanto di questo calore se ne produce all'interno grazie proprio alle reazioni di fusione nucleare che ha anticipato Francesco e soprattutto un altro numero sconvolgente assolutamente non intuitivo e quanti neutrini vengono dal sole prodotti all'interno del nucleo del sole da queste reazioni rifacciamo un altro esercizio se noi c'è un'altra coincidenza lo stesso non c'è nessuna spiegazione nessuna motivazione noi abbiamo il cosiddetto indice lunare se mettiamo l'indice alla distanza di circa la distanza tra la testa diciamo e la mano ordine sempre del metro questo copre esattamente il disco del sole o della luna quindi abbiamo l'indice solare e l'indice lunare se puntiamo il sole con il nostro indice e contiamo un secondo in questo secondo attraverso l'unghia del nostro indice quindi in uno spazio di circa un centimetro quadro in un secondo sono passati 60 miliardi di neutrini ok e questo diciamo è un numero che sembra assurdo uno perché dove stanno tutti questi neutrini non li vediamo questa particella è molto elusiva difficile da osservare e questo è il motivo per cui questo tipo di ricerche vanno fatti in ambienti particolari come vedremo con esperimenti particolari come nel caso di Borexia come si fa a stimare questo numero che è estremamente interessante anche diciamo a livello didattico noi sappiamo quant'è la potenza che irraggia il sole sulla terra è qualcosa in realtà questo numero che ho riportato nella slide è circa 1.3 kilowatt in atmosfera poi c'è un po' di filtro quindi sulla terra un po' di meno però è una quantità enorme pensate che un'abitazione assorbe in media 3 kilowatt di energia quello che fa girare più o meno una lavatrice e il forno prima che scatta la valvola e questo è dato da una superficie di 2 metri quadri quindi una superficie estremamente piccola quindi il sole manda questa potenza enorme sulla terra e che noi diciamo anche di recente con tutta la questione energetica cerchiamo di catturare in maniera sempre più efficiente ma il sole manda questa potenza in tutte le queste energie in tutte le direzioni quindi noi per calcolare qual è l'energia prodotta dal sole non dobbiamo fare altro che prendere questo numero e moltiplicarlo per la sfera di 150 milioni di chilometri che abbiamo detto prima che circonda diciamo tutto il sole alla distanza della terra e questo numero il numero che viene fuori è 4 per 10 alla 26 watt quindi vuol dire 400 milioni di miliardi di miliardi di watt quindi una potenza enorme che viene generata che viene generata dal sole come ci ha anticipato come ci ha anticipato Francesco oggi sappiamo che questa energia viene dalle reazioni di fusione in particolare 4 nuclei di idrogene quindi 4 protoni si fondono attraverso una serie di reazioni e in modalità che vedremo a breve che sono stato il proprio oggetto di studio dell'esperimento Borrexino si fondono alla fine in un nucleo di elio il nucleo di elio la somma di tutto quindi se vogliamo quantificare l'energia ci aiuta Einstein la famosa legge è uguale a mc quadro il nucleo di elio è il 7 per mille più leggero della massa dei 4 protoni in origine quindi questa differenza di energia che corrisponde a 10 alla meno 12 joule il joule è sempre un'unità macroscopica che ci siamo costruiti per descrivere le energie della vita quotidiana infatti spesso si fa l'esempio che il joule è l'energia potenziale acquistata da una mela quindi da circa 100 grammi che viene sollevata di un metro in un campo del campo gravitazionale del resto sulla superficie della terra quindi se questa è l'energia prodotta dalla singola reazione che è piccola perché è un'energia ovviamente che avviene attraverso oggetti infinitesimi che sono appunto le particelle l'idrogeno e l'elio ma sappiamo la potenza erogata dal sole quindi la potenza è energia diviso tempo se dividiamo questa quantità che avviene prodotta ogni secondo per l'energia della singola reazione capiamo semplicemente che avviene qualcosa come 10 alla 38 fusioni di idrogeno al secondo quindi ogni secondo il nostro sole brucia 600.000 tonnellate di idrogeno che è una quantità enorme però diciamo sappiamo quanto è grande il sole in realtà questa confusione per le dimensioni del sole è estremamente lenta e permette al sole di vivere miliardi di anni quanti neutrini vengono prodotti ebbene se da 4 protoni ho ottenuto un nucleo di elio il nucleo di elio è fatto da 2 neutroni e 2 protoni quindi ho dovuto convertire per la reazione che ci ha fatto vedere Francesco 2 protoni e 2 neutroni quindi ognuna di queste reazioni ha prodotto 2 neutrini quindi moltiplico questo 10 alla 38 per 2 e ottengo che nel cuore del sole dove vengono queste reazioni vengono prodotte 10 alla 38 2 per 10 alla 38 neutrini al secondo se lo ridivido di nuovo per l'inverso della superficie della sfera perché io sono a distanza di 150 milioni di chilometri il flusso di neutrini è esattamente quel 60 miliardi per centimetro quadro al secondo ok? che è quello che dobbiamo cercare di rivelare perché fatto sta non ce ne accorgiamo ma ci è voluto tempo per accorgersene che esistevano questi neutrini nel sole in particolare senza dire troppi dettagli i neutrini diciamo la fusione dell'idrogena avviene attraverso due processi il 99% quindi la gran parte della fusione è prodotta da quello che si chiama la catena protone 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 ovvero una serie di reazioni di fusione in cui per esempio c'è il primo passo che è quello che ci ha mostrato Francesco della fusione dei due protoni in deuterio e poi ci sono altre reazioni successive che portano infine alla formazione del nucleo di elio è curioso perché nel sole anche a livello sottodominante quindi come contribuisce in realtà solo all'1% questo meccanismo si può fare attraverso un altro processo che si chiama il ciclo CNO cioè un nucleo di carbonio 12 cattura uno alla volta questi questi protoni riassestando il nucleo al suo interno fino alla fine a riprodurre di nuovo il carbonio 12 più un nucleo di elio quindi la stessa reazione ma catalizzata dal carbonio 12 questo meccanismo sappiamo dall'astrofisica sapevamo almeno solo a livello teorico fino al 2020 che era il meccanismo in realtà di produzione principale di energia nell'universo perché è dominante per una questione di efficienza nelle stelle che pesano circa una volta e mezzo il sole nel sole questa reazione date le sue condizioni di massa e temperatura è appena iniziata quindi è un miracolo che siamo riusciti a vederlo anche in Borexino anche se contribuisce soltanto all'1% senza entrare nel dettaglio di questo grafico è solo per dire che non riusciamo a capire ah scusate tolgo la pallasole per i presenti perché è abbastanza ingombrante ok e quindi i neutrini vengono prodotti con una distribuzione energetica peculiare che ci permette tra l'altro di distinguere quindi misurare le singole fasi di questi processi in cui si produce l'elio a seconda del tipo di reazione ma i neutrini abbiamo detto non li vediamo i neutrini sono neutri elettromagneticamente quindi non sentono la carica elettrica dell'elettrone del protone eccetera interagiscono con la materia soltanto attraverso quello che si chiama l'interazione debole quindi di fatto hanno una dimensione relativa rispetto alla materia estremamente piccola quindi questo fa sì che la maggior parte dei neutrini passa inalterata quasi inalterata attraverso spessori enormi di materia la terra stessa per i neutrini è praticamente trasparente loro ci attraversano come dei fantasmi quotidianamente un flusso enorme e noi non ce ne accorgiamo quindi dobbiamo capire come rivelarli quindi solo qualche neutrino che è così fortunato che riesce a passare in prossimità per esempio di un elettrone riesce a urtare l'elettrone l'elettrone che prende energia dal neutrino rilascia la sua energia all'interno dei nostri rivelatori e noi siamo capaci di poter dire che è passato un neutrino però vediamo quanto è difficile questo tipo di ricerca se uno si calcola la probabilità qual è la probabilità che un neutrino di questi 60 miliardi di neutrino per centimetro per seconda interagiscono per esempio in una bottiglia d'acqua minerali se si fa il conto noi oggi conosciamo diciamo tutte le particolarità di questo tipo di interazione dobbiamo prendere il flusso che abbiamo detto sono i famosi miliardi 60 miliardi di neutrino a centimetro quadro al secondo manca secondo sulla trasparenza poi li dobbiamo moltipliare per quanti elettronici sono nell'acqua conosciamo il numero d'avvocato questo è un calcolo semplice che si può fare per chi conosce alcuni elementi di chimica poi lo moltiplichiamo su questa che ho chiamato dimensione tra virgolette dei neutrini noi tecnicamente la chiamiamo sezione d'urto e dice proprio la sua raggio d'azione se volete che ha questa particella in base alla sua proprietà rispetto all'elettrone e lo moltiplichiamo per i secondi che ci sono in un anno esattamente la formula simile a quella che ha mostrato prima Francesco facendo questo numero ci viene che in realtà in una bottiglia d'acqua minerale vedremmo soltanto un'interazione all'anno quindi un evento estremamente raro non solo estremamente raro ma anche estremamente difficile da cercare nel marasma degli eventi spuri che si trovano naturalmente in una bottiglia d'acqua minerale l'acqua minerale bombardata dalla radiazione cosmica che diciamo che continuamente rilascia energia e confonde questo tipo di ricerca ha delle impurezze quindi delle disintegrazioni interne che rilasciano l'energia e sono tantissime sono circa 1 per litro al secondo quindi se moltifichiamo in un anno tutte queste interazioni cercare il neutrino in una bottiglia di acqua minerale è come cercare un evento su un fondo di 100 100 milioni di eventi quindi qualcosa di estremamente difficile l'ago nel pagliaio è un eufemismo diciamo rispetto a questo tipo di ricerca allora come possiamo rendere credibile e fattibile questo tipo di ricerca prendiamo la nostra diciamo il nostro target il nostro bersaglio lo ingrandiamo notevolmente in Borexino abbiamo qualcosa come il volume del nostro bersaglio che cattura i neutrini è qualcosa come 100 mila volte la bottiglia d'acqua d'acqua minerale quindi abbiamo messo un target enorme aumentato di un fattore 100 mila la probabilità di interazione l'abbiamo protetta dai raggi cosmici quindi portandolo sotterraneo dove il flusso di queste particelle che proviene dall'atmosfera è praticamente diciamo azzerato e abbiamo utilizzato qualcosa di molto più puro di una bottiglia d'acqua minerale un liquido scintillatore che contiene questi contaminanti naturali come uno su un miliardo di volte in meno rispetto all'acqua all'acqua minerale quindi un liquido estremamente 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 puro e questo è stato uno dei punti più cruciali della difficoltà di poter realizzare un esperimento che avesse queste caratteristiche l'idea di Borexino nasce negli anni 90 grazie soprattutto al professor Gianpaolo Bellini dell'Università di Milano Calaprais e Frank Calaprais e Raju Ragavan che all'inizio hanno cominciato a discutere tutti gli aspetti su come realizzare questo scintillatore così radio pure così grande e ci sono voluti anni questo progetto è durato circa 30 anni per poter tantissimi anni di preparazione di studio di materiale selezione per poter arrivare a queste condizioni veramente uniche la collaborazione poi è cresciuta questa è una nostra foto in un meeting della Sardegna di qualche anno fa e poi ci siamo fatti anche l'ultima foto prima dello smantellamento quindi proprio a fine diciamo poco dopo in realtà lo smantellamento a fine del 2021 con gli ultimi collaboratori come vedete ci sono tanti giovani perché c'è stato diciamo ci sono state due o tre generazioni di fisici che si sono alternati studenti che si sono alternati hanno contribuito ai vari risultati e le varie migliorie che si sono state apportate negli anni il rivelatore borexino quindi come abbiamo anticipato si trova presso il laboratorio nazionale del Gran Sasso se si trovava presso il laboratorio nazionale del Gran Sasso nella sala C questo è lo schema dell'esperimento come funziona borexino essenzialmente una grande sfera di 13,7 metri di diametro che contiene al suo interno questo liquido di scintillatore estremamente puro incapsulato in una specie di struttura matriosca in realtà il cuore vero dell'esperimento dove si osservano i neutrini sono soltanto meno circa 100 tonnellate proprio nella parte centrale del rivelatore quello che chiamiamo tecnicamente il volume fiduciale lo scintillatore è un materiale che ha la proprietà di emettere luce quando viene attraversata una particella ionizzante come per esempio abbiamo detto l'elettrone che viene diffuso urtato da un neutrino e quindi rilascia la sua energia convertendone in luce questa luce è debolissima questo oggetto ovviamente è tutto al buio sono pochissimi quanti di luce pochissime particelle di luce i cosiddetti fotoni qualche centinaio per evento quindi estremamente difficile da rivelare quindi quello che utilizziamo e che si utilizza in esperimenti simili sono queste specie di occhi che vediamo attorno alla superficie interna della sfera che sono tubi fotomoltiplicatori che sono oggetti di questo tipo ne ho portato un esempio questo è proprio il modello utilizzato in Borexino sono oggetti estremamente sensibili riescono a percepire il singolo quanto di luce quando urta la superficie di questo oggetto e trasformarlo in un segnale elettrico che può essere acquisito ed elaborato dai computer Borexino appunto ne aveva 2200 quindi copriva tutta la superficie di questi occhi immaginate anche riscalando questa dimensione quanto è grande Borexino l'energia depositata all'interno del rivelatore è proporzionale all'energia del neutrino primario che l'ha urtato quindi non ricostruiamo la distribuzione energetica in qualche modo dei neutrini che vengono dal sole queste sono alcune foto durante prima del riempimento come era attualmente nella sala C e l'interno fatto dalla telecamera che ogni tanto si accendeva e monitorava l'esperimento senza entrare di nuovo nel dettaglio prima abbiamo visto la distribuzione dei neutrini solari teoriche quelle prodotte dalle reazioni di fusione all'interno del sole e questo è come viene rivelato da Borexino questa distribuzione energetica ha delle caratteristiche peculiari attraverso analisi statistiche non riusciamo a distinguere le componenti di neutrino dai fondi e riusciamo a misurarne il numero quindi il flusso di neutrini che arriva dal sole a capire quanti ne vengono prodotti nel cuore del sole ogni istante Borexino ha dato risultati importantissimi perché ha visto nel cuore del sole ha studiato bene queste reazioni la velocità con cui avvengono e ha praticamente visto e distinto tutti i neutrini che vengono prodotti nelle singole fasi della catena protone-protone di recente un risultato completamente inatteso è riuscito a vedere anche l'un per cento di questi neutrini cioè quelli prodotti dal ciclo secondario del CNO e questo è stato un risultato incredibile perché abbiamo avuto la prima prova sperimentale dell'esistenza di questo ipotetico meccanismo alternativo che produce energia all'interno del sole che è dominante come meccanismo di produzione di energia nell'universo quindi abbiamo compreso qualcosa di fondamentale per l'astrofisica e del diciamo la cosmologia in generale quindi conoscendo misurando il flusso del neutrino all'un per cento oggi conosciamo riusciamo a ricostruire l'energia prodotta all'interno del sole con la stessa precisione conosciamo l'energia prodotta nel sole al livello del per cento quindi un risultato veramente incredibile raggiunto come vedremo anche nella seconda parte non solo grazie a Borexino ma da tanti esperimenti che hanno cominciato a studiare i neutrini solari che nel passato sono stati anche presso questi laboratori e di recente appunto completato da Borexino ma veniamo alla domanda più curiosa e quella che chiude tutto il quadro il lungo percorso che abbiamo iniziato con Lucio Russo che ci ha parlato del modello elocentrico che c'entra Borexino con l'astronomia ebbene c'è un fatto abbastanza curioso la nostra orbita come appunto abbiamo anticipato non è perfettamente circolare è ellittica questo l'aveva teorizzato dimostrato con le misure che plero e queste informazioni sono state fondamentali per Newton per comprendere la forza la teoria della gravitazione universale che ricordiamo è uno delle conquiste intellettuali più importanti di tutta la storia della fisica e forse del pensiero umano quindi l'orbita che percorriamo attorno al sole è ellittica quindi che vuol dire che in alcuni periodi dell'anno come in particolare all'inizio di gennaio siamo più vicini al sole ok? e quindi misuriamo più neutrini semplicemente perché siamo più vicini quindi il flusso di neutrini è semplicemente più elevato sei mesi dopo che ci troviamo nella direzione opposta ne misuriamo leggermente di meno quant'è questa percentuale? tra i due antipodi tra i due aspidi come si chiamano sono circa il 7% di differenza data la sensibilità di Borexino e la lunga esposizione questa misura è stata fatta in circa 10 anni siamo riusciti a vedere la modulazione dei neutrini del flusso dei neutrini solari dovuto proprio al fatto che l'orbita è ellittica questo grafico in realtà quello in basso è più illustrativo ci mostra il residuo della modulazione cioè esattamente la differenza tolto diciamo il trend a lungo termine e quindi facendo un'analisi statistica abbiamo dedotto abbiamo ricostruito l'eccentricità dell'orbita terrestre a partire dal flusso di neutrini quindi abbiamo visto confermato questa vecchia ipotesi che ha avuto così tanto successo e che è stata così importante per la storia della fisica da più di 2000 anni l'abbiamo visto con qualcosa che non era l'astronomia ottica l'abbiamo visto con i neutrini con i neutrini prodotti all'interno del sole questa misura ha una significatività statistica elevata e da solo se volete è abbastanza convincente per ricordarci che giriamo attorno al sole e percorriamo un'orbita ellittica e questo valore che otteniamo ovviamente con un'incertezza molto più grande di quello che viene dall'astronomia è perfettamente compatibile con la piccola eccentricità dell'orbita che ormai si misura da secoli e va bene quindi concludo la mia presentazione volevo anzi dire velocemente che questa parte della modulazione verrà esposta più in dettaglio nella presentazione su Borexino che farà il collega Riccardo Biondi va bene grazie a tutti grazie bellissima presentazione chiaramente è importante che ci sia questo racconto perché la storia di Borexino è stata una storia molto importante come quella di tanti altri esperimenti tra cui ne sentiremo le presentazioni nella prossima parte di questa giornata la storia dello studio del neutrino solare è cominciato tanto tempo fa e oggi la conosciamo bene siamo partiti muovendoci un po' cercando di capire quello che il sole rappresentava dal punto di vista di quello era il suo funzionamento e oggi lo conosciamo abbastanza bene in tutti i suoi aspetti volevo ricordare che il laboratorio è stato coinvolto non soltanto in Borexino ma anche in altri esperimenti che studiavano il sole GALLEX lo sentiremo dopo GNO che è venuto dopo GALLEX e quindi in qualche modo per me è importante citarlo come una storia propria del laboratorio quindi è importante viverlo in questa maniera ci sono domande per per da remoto devo sapere se qualcuno voleva avere qualche domanda per Nicola mi sentiamo qualche minuto ancora non fate i timidi non è il caso ah interessante questa bella domanda bella domanda c'è ancora tanto che si può fare per comprendere nei dettagli tutti i meccanismi di diciamo di come funziona il sole e ci saranno delle ci possono essere delle possibilità in particolare ci sarà una presentazione forse l'ultima che farà il collega Aldoianni proprio sulla possibilità di continuare a fare questo tipo di ricerca anche presso i laboratori nazionali del Gran Sasso in realtà non direttamente ma attraverso l'utilizzo di rivelatori che in realtà vengono costruiti per fare altro cioè per cercare la materia oscura però hanno una sensibilità e una risoluzione energetica molto elevate che potrebbero dare risultati simili ovviamente oltre a questo in altre parti del mondo in altri laboratori sotterranei ci sono anche altri progetti e si sta pensando comunque di portare avanti questo filone utilizzando tecniche simili anche ispirate in parte a Borexino Altre richieste? domanda banale perché si chiama Borexino l'esperimento? bella domanda spesso usiamo degli acronimi no? mettiamo dei nomi di fantasia in realtà il nome poi ha cambiato il suo scopo perché il primo rivelatore doveva utilizzare del boro composto a base di boro e quindi diciamo il primo esperimento si doveva chiamare Borex che era molto più grande poi in realtà si è fatto un ridimensionamento e quindi si è cominciato a chiamarlo Borexino poi in realtà si è visto che quella tecnica non funzionava per poter studiare in utile a bassa energia si è preferito scintillatore liquido organico quindi poi in realtà ha cambiato completamente lo scopo ma a quel punto il nome era già stato messo e quindi diciamo è rimasto Borexino io do un accenno sui genotrini allora i genotrini sono estremamente interessanti perché hanno aperto un settore interdisciplinare con la geofisica per comprendere come funziona il centro della terra noi sappiamo che c'è un'enorme quantità di calore prodotto all'interno della terra dovuto in parte anzi forse una parte abbastanza consistenza dai decadimenti di isotopi radioattivi che sono naturalmente presenti nei vari strati del sottosuolo e Borexino è stato uno dei pochi esperimenti che è riuscito a vedere questi genotrini ancora molto più difficili da vedere perché i genotrini sono mille volte più di meno in flusso rispetto a quelli che vengono del sole però hanno una un segnale diverso facilmente distinguibile dal fondo perché sono antineutrini quindi producono una sequenza di eventi in coincidenza che è facilmente praticamente a zero fondo quindi facilmente rivelabili all'interno del rivelatore ed è stato molto interessante ad aver aperto una collaborazione appunto con i geofisici perché combinando le varie osservazioni si possono iniziare a fare una nuova fisica che appunto distingue tra i vari modelli di come funziona diciamo il centro della terra e come è strutturata la terra nel suo interno c'era una domanda per Francesco ci sono molte molto molto belle allora vado un po' a caso allora per catturare i neutrini facciamo quando deve essere grosso una lastra di piombo ecco diciamo non è che una lastra di piombo li ferma tutti anzi quello che ha mostrato Nicola poco fa è che in verità noi ne prendiamo solo qualcuno cioè per esempio con Borexino se ne catturavano un centinaio al giorno però come abbiamo visto in un centimetro quadrato al secondo ne passano 60 miliardi quindi in qualche modo noi facciamo un campionamento ecco per i neutrini questa è la caratteristica poi vedo vedo una domanda sul sul fatto che esistono altre particelle oltre ai neutrini assolutamente sì i neutrini sono diciamo da quello che sappiamo oggi è altrettanto importanti quando gli elettroni cioè quelle parti esterne che compongono i nuclei degli atomi quindi hanno una stessa importanza quindi in questo senso per quanto diciamo siano diciamo pure inutili per diciamo la nostra vita quotidiana e siano stati un buona sorpresa quando sono stati scoperti però dal punto di vista del modello della teoria diciamo delle particelle una specie di tavola di Mendeleev i neutrini ed elettroni sono altrettanto importanti come per esempio le parti che compongono i protoni e i neutroni che sicuramente avete sentito si chiamano quark se lo sapete tutti dal programma di Piero Angela c'è una domanda se Borrexino rivela solo neutrini elettronici o anche di altro tipo rivela principalmente neutrini elettronici ma anche quelli di altro tipo con minore diciamo efficienza questa è una parte della storia molto bella su cui ho glissato perché è un po' lunga ma immagino che chi ha chiesto la domanda si riferiva anche al fatto che sapeva che in base a una interessantissima speculazione poi confermata del nostro Bruno Ponte Corvo i neutrini si trasformano gli uni negli altri un po' diciamo veramente come insomma cose inaspettate e strane diciamo un premio Nobel a cui chiesero di spiegare questo fenomeno disse parlò di un cane che si trasforma in un gatto è una cattiva metafora secondo me però diciamo se vi interessa per l'appunto scriveteci scrivetemi e insomma vi racconto un po' meglio ce ne sono tante quindi diciamo direi sì poi da boh casomai ci risentiamo grazie rispondo una domanda io perché visto come direttore devo rispondere a questa domanda che mi chiede qual è stato il contributo di un'azienda allora Borexino in realtà si è avvalso pesantemente del contributo di aziende italiane non solo perché le tecnologie sviluppate in ambito in ambito Borexino sono tecnologie sviluppate agli estremi cioè dovete immaginare che la purezza di Borexino è tale per cui non esiste un materiale dal punto di vista radioattivo più puro sulla terra fino alla realizzazione di Borexino e ovviamente per fare questo non basta soltanto vedere buone idee bisogna anche implementarle e quello che posso dire tranquillamente è che molte aziende anche abruzzesi che bisogna ricordare le aziende anche in Abruzzo che hanno contribuito alla costruzione di questo rivelatore e molte aziende italiane hanno contribuito a fare un rivelatore che ancora oggi al mondo non si riesce a riprodurre quindi chi vorrà fare in futuro ha come sfida quella di raggiungere prestazioni che saranno paragonabili a quelle appunto che Borexino raggiunge questo in realtà è vero per anche altri esperimenti si lavora sempre un po' alla frontiera della tecnologia e quindi in qualche modo si cerca di spingere la tecnologia ai limiti diciamo spingendola alle prestazioni più estreme possibili finché non arriva qualcun altro che trova qualcosa di nuovo e si fa un passo ulteriore dunque io direi che questa prima fase della giornata è conclusa qui adesso c'è una pausa di un quarto d'ora circa e poi riprendiamo con la seconda parte chiaramente la seconda parte va più sugli esperimenti ci sarà tutta la discussione sulla parte più sperimentale se le scuole vogliono restare collegate sono le benvenute diventerà un pochettino più tecnica la discussione ma neanche tanto stiamo cercando di essere divulgativi il più possibile e comunque ci risentiamo tra 15 minuti 10-15 minuti in questa seconda parte parleremo con delle presentazioni un po' più tecniche del passato presente e futuro per quanto riguarda la fisica dei neutrini solari inizieremo con uno degli esperimenti che è stato pioniere da questo punto di vista che è GALLEX prima e poi GALLEX GNO e abbiamo con noi Carla Gattadori che inizierà la sessione parlandoci appunto di GALLEX e GNO buongiorno a tutti grazie per avermi invitato per me è un piacere un onore di presentare i risultati di GALLEX GNO che sono stati fondamentali nella ricerca e nella rivelazione dei neutrini solari al Gran Sasso e sono stati i primi che hanno aperto poi la strada a Borexino il prologo della storia di GALLEX GNO e della tecnica radiochimica di rivelazione dei neutrini solari nasce nel 46 quando Pronte Corvo pubblica un'idea di poter rivelare neutrini tramite le reazioni di correnti cariche sul cloro 37 e anche su altri nuclei tramite il decadimento beta inverso nel 56 c'è poi la scoperta da parte di Rheines di Fred Rheines dei neutrini in un esperimento al reattore e per il quale poi prende il riceve il premio Nobel per la fisica nel 1995 chi raccoglie questa quest'idea sono Davis e Bacol come già è stato detto da Francesco Vissani mi pare e pubblicano su Fisica Violetta nel 64 lo studio di fattabilità dell'esperimento del cloro che è il primo esperimento che è rivolto alla rivelazione dei neutrini dal sole la soglia di questo esperimento è 833 Kev quindi questo esperimento non ha questo progetto non ha accesso al bulk dei neutrini del sole non ha accesso ai neutrini del PP il progetto viene supportato dal dipartimento di chimica di Brookhaven e inizia la presa dati nel 1967 dopo 23 anni di misura perché l'esperimento funziona fino verso la fine degli anni 80 il risultato di questo esperimento è di misura circa un terzo del valore atteso introdurrò queste unità che qui vedete SNU Solar Neutrino Unit nelle slide successive per ora prendete il messaggio che il valore misurato dal primo esperimento il primo in assoluto non c'era storia dietro non c'era conoscenza era di circa un terzo e quindi questo ha aperto un grosso punto di domanda veramente un grosso punto di domanda nell'ambito della fisica della nascente fisica astroparticellare ed è la nascita segna la nascita del problema del neutrino solare che è stato chiamato così per decenni e decenni ecco si pone il problema quindi di andare oltre cosa si fa per capire questo risultato cosa fare ma c'erano molte idee allora l'idea un'idea era che la mancanza di neutrini rivelata fosse legata al modello solare standard che era appena stato sviluppato da Bacol su basi molto solide ma questo modello aveva una parte di modellistica ma anche da una parte di parametri in input che potevano eventualmente non essere corretti e quindi se questo fosse stato il caso la cosa da fare era di andare a misurare il flusso dei neutrini del pipì che sono di gran lunga e più abbondanti e che sono strettamente legati alla luminosità del sole e sono come si dice model independent vedremo perché e quindi volendo perseguire questa idea la cosa da fare era di fare un esperimento che avesse una soglia per rivelare i neutrini del pipì della fusione del protone nelle stelle e da qui nascono gli esperimenti del gallio che sono stati gallex e sage nel caso invece che la mancanza di neutrini osservata dall'esperimento del cloro fosse dovuta a caratteristiche proprietà intrinseche dei neutrini allora la cosa da fare sarebbe stata anche di andare a cercare di rivelare non solo i neutrini di sapore ma i neutrini di tutti i sapori e quindi da qui l'idea dell'esperimento del cloro agli esperimenti di scattering di neutrino su elettrone che poi è stato fatto ed è stato Snow e Supercamiocande del modello solare standard abbiamo già sentito da Francesco e da Nicola ecco qui presento quello che era il risultato del modello di Baccolp in Sono nel 2000 quello che poi si chiama in gergo BP00 e come vedete qui sono illustrate le varie componenti dei neutrini con il loro spettro di energia il bulk dei neutrini è quello dalla fusione dei protoni nel sole e nel modello standard BP00 e comunque tutti i modelli standard l'errore sul flusso di questi neutrini è di circa l'1% da confrontare con l'errore per esempio sul beriglio che era di circa il 10% e del boro di circa il 20% i flussi sono anche i flussi dei pipì quindi sono il bulk dei neutrini che viene dal sole sono 60 miliardi per centimo quadrato per secondo l'incertezza viene detto in 1% e perché si dice che è model independent perché la dipendenza del flusso dalla temperatura al centro del sole è praticamente non esiste è come t alla meno 1 mentre invece i neutrini che vengono dal beriglio 7 dalla reazione del 7 e del 8 vedete c'è una dipendenza con la potenza di 8 e addirittura alla 18 della temperatura interna del sole questo è il motivo per cui si dice che il flusso dei neutrini del pipì è sostanzialmente model independent e questo è il motivo per cui era fondamentale andare a misurare questi negli anni 60 e 80 ci sono fermento di idee e ci sono queste proposte di tentativi di far partire esperimenti in Russia Kuzmin propone il gaglio dell'esperimento del gaglio riescono in Russia nell'Unione Sovietica avevano 60 tonnellate per motivi militari se volete vi potrò anche dire perché di gaglio metallico che sono state dati in prestito agli scienziati e collocati poi a Baksan al laboratorio sotterraneo di Baksan e ha iniziato la prisa dati nel 1990 negli USA Bacol Cleveland e Davis propongono 50 tonnellate di gaglio in soluzione o in forma metallica da collocare in un laboratorio ospitante e lo pubblicano nel 78 questi esperimenti sono esperimenti radiochimici cosa vuol dire? vuol dire che non c'è una rivelazione diretta istantanea evento per evento non c'è una ricostruzione statistica sui singoli eventi che arrivano nel rivelatore ma si espone il cosiddetto bersaglio il bersaglio è il target al flusso di neutrini solari i neutrini solari interagendo con il nucleo bersaglio generano un nuovo nucleo questa è una reazione di corrente carica più un elettrone questo nuovo nucleo si scelgono nuclei che sono che generano un nucleo N' instabile che può essere poi separato dalla targhetta dal bersaglio con tecniche radiochimiche e quantitativamente misurato il suo decadimento perché abbiamo detto è instabile e ridecade nel nucleo N e misurando il suo decadimento si riconosce il nucleo N' e si conta quanti nuclei N' sono stati estratti dal bersaglio quindi come vedete la formula che dà la rete di interazione atteso è questa qua e c'è il numero di nuclei del bersaglio le sezioni d'urto funzioni dell'energia il flusso di neutrini che è sempre funzione dell'energia e la probabilità di avere un neutrino E questa è la parte legata alle oscillazioni di neutrino che sulla terra rimane neutrino E le sezioni d'urto sono piccolissime 10 alla meno dell'ordine 10 alla meno 46 cm2 i flussi come abbiamo detto sono di 6 per 10 alla 10 neutrini per secondo per centimetro quadrato sulla terra e da qui nascono le cosiddette solar neutrino unit una solar neutrino unit corrisponde a un'interazione per secondo ogni 10 alla 36 atomi targhetta atomi bersaglio quindi è chiaro da questi conti da questi numeri che per avere circa un'interazione al giorno bisogna esporre un bersaglio che sia di circa 10 alla 29 10 alla 30 nuclei che detto in tonnellate corrisponde a 10 100 tonnellate la collaborazione di Gallex si forma negli anni 70 fine anni 70 inizio anni 80 ed è fatta da questi da questi istituti principalmente proposta dal Max Planck Istituto di Heidelberg e la collaborazione è fatta da questi istituti c'è una grossa componente tedesca Max Planck Istituto Karlsruhe Monaco una grossa componente dell'INFN e delle università italiane e poi una componente francese e una componente israeliana e anche l'istituto Kurciatov e il COA di Grenoble per la produzione della sorgente di cromo lo spot person è Till Kirsten che avete visto nella fotografia che ho illustrato questo è lo schema dell'esperimento Gallex questo è il bersaglio 33 tonnellate di tricloruro di Gallio che in soluzione acida formavano appunto il bersaglio un volume di 54 metri cubi e questa è la reazione di rivelazione dei neutrini solari su Gallio quindi il neutrino interagisce con il Gallio 71 produce Germanio 71 più elettrone bisogna essere capaci di estrarre Germanio 71 dal bersaglio metterlo in un apposito contatore per rivelare il suo decadimento il suo decadimento il Gallio 71 nuovamente con un tempo un'emivita di 16,5 giorni e rivelare quindi questo decadimento dal Germanio 71 al Gallio 71 per aver identificato il prodotto di interazione del neutrino con il Gallio 71 la soglia di questo l'esperimento Gallex è di 233 keV quindi è come vi posso mostrare qua purtroppo non reagisce prontamente quindi è sotto la spalla dei neutrini PP che come vedete ecco la soglia dell'esperimento Gallio è qua sotto la spalla dei neutrini PP quindi erano in grado di vedere i neutrini PP mentre invece qui la soglia dell'esperimento del cloro e qui la soglia degli esperimenti supercamiocande e SNU ai tempi proviamo a ritornare avanti il segnale atteso per Gallex era di 129 SNU principalmente composto da neutrini del PP del ciclo del PP il 55% del segnale veniva dai neutrini del ciclo del PP il 27% dal beriglio 7 l'8% del CNU 10% dal beroglio 8 e si attendevano sulla base del modello solare standard escluse le oscillazioni ci si aspettava circa 1 e 2 catture di neutrini al giorno che però dato il tempo di decadimento del Germania 71 nel tempo durante il tempo di esposizione ci si attendeva ai tempi quando l'esperimento partì di trovare circa 9 Germania 71 decadimenti di Germania 71 nel contatore proporzionale una volta fatta l'estrazione dalla tank di Gallio per estrazione per un'esposizione di 28 giorni quindi questo è lo schema dell'esperimento queste cose le abbiamo già viste quindi questa è la reazione fondamentale su cui è basato e ripeto la soglia importantissima 233 keV ben sotto la spalla dei neutrini lo spettro continuo dei neutrini pipì dal sole questo è il processo logico dell'esperimento quindi si aggiungeva all'inizio della fase di esposizione un milligrammo di carrier erano isotopi di Germania alternativamente 72 74 eccetera si lasciava in esposizione il bersaglio per 21 28 giorni un giorno per i randi blank quindi per i randi solari 21 28 giorni un giorno per i randi blank che servivano come controllo si estraeva il tricloruro di Germania il tetracloruro di Germania perché il Germania una volta in soluzione acida forma questa molecola il tetracloruro di Germania e poi con un gas stripping dal tank si estraeva in fase acida il tetracloruro di Germania è gassoso si estraeva il tetracloruro di Germania dalla tank in circa 10 ore si faceva una sintesi del trasformava il tetracloruro di Germania in germano GH4 si aggiungeva a xeno si riempiva un contattore proporzionale e si iniziava il conteggio di questo gas contenente Germania in 71 per identificarne il decadimento l'esperimento inizia come tutti gli esperimenti dalla preparazione del sito erano i primi anni dei laboratori del Gran Sasso e queste sono le immagini la galleria era ancora che entrava in laboratorio era ancora sterrata non completata si passava solo noi con le automobili con le automobili di servizio e questa era l'immagine della sala e dell'edificio di Gallex in sala una sala ancora quasi deserta qui ci sono altre immagini questo è il sistema di stripping del tetracloruro del tetracloruro di Germania riportarlo in fase acquosa per poter poi fare la sintesi del tetracloruro Germania in Germano questa è qui ci vedete un giovane Stefano Nisi e Nicola Ferrari questo è il sistema di sintesi del Germano in cui il tetracloruro Germania veniva convertito in Germania con una reazione chimica questo è il contatore proporzionale in cui si riempiva con cui si riempiva Germania veniva mescolato a xeno e riempito in questo contatore proporzionale la schermatura del contatore proporzionale la tank di shielding in cui tutti i contatori proporzionali vengono inseriti e contati per circa sei mesi sei mesi quindi come vedete il risultato di un rassolare si aveva sei mesi dopo queste sono immagini dall'installazione di Gallex la prima tank che è stata installata l'edificio gli è stata costruita intorno qui c'è Tilkirsten Brinda Kit Rowley Marco Balata Hans Richter Daniel Vignot Charlie Town Wolfgang Ampel tutte persone che hanno collaborato alla partenza e poi alla messa in funzione e qui c'è l'immagine di quando stavamo preparando poi per GNO ho fatto una tabellina dei costi questa è divertente perché se uno pensa ai costi che questo esperimento ha avuto e ai risultati che ha dato giusto per fare quello che di moda si chiama rapporto costi-benefici o benefici-costi potete vedere che questo è un esperimento che con una trentina di milioni di franchi svizzeri di euro ha prodotto risultati scientifici inimmaginabili per il costo che ha avuto e ha dato luce ha raccolto la luce del sole ma ha dato luce ai laboratori e a generazioni di persone che hanno lavorato e ha dato anche molto know-how e molta conoscenza queste sono le tank con cui arrivava il gallio e veniva poi trasportato in galleria la prima comunicazione dei risultati di gallex è stata a neutrino 92 questa è la slide per cortesia di Till Kirsten che De Rucula nella sua summary talk alla conferenza Neutrino 92 fece e quindi disse che la bomba a fusione di pipì di neutrini solari è detonata a Granada fatta esplodere da Till Kirsten alle 6.15 pm del 1992 ecco era molto carina questa immagine ho voluto riportarla qual è stato il primo risultato di gallex il primo risultato di gallex è stato misura 83.4 più o meno 19 snu statistico più 8 snu sistematico atteso 129 più 9 meno 7 quindi capite benissimo che fin da prima dalla prima pubblicazione dei risultati era evidente che l'esperimento confermava un deficit di neutrini il deficit che però osservavamo non era esattamente della stessa entità di quello del cloro e quindi dell'esperimento del cloro e quindi capite bene che in questo scenario ancora molti quesiti si aprivano molte domande l'esperimento non era ancora stato calibrato con la sorgente di cromo non erano stati fatti gli studi di efficienza dell'estrazione del germanio cioè l'esperimento di Essenico che abbiamo fatto alla fine del progetto quindi è chiaro che abbiamo pubblicato in quel momento queste conclusioni il risultato è marginalmente compatibile con il standard solar model in quanto atteso è il standard solar model ma non abbiamo fatto alcun claim di oscillazioni la storia di Gallex è questa la storia di Gallex è questa la presa dati la costruzione del rivelatore è dall'86 al 90 ci sono state quattro fasi abbiamo pubblicato i dati in quattro fasi 1, 2, 3 e 4 ci sono state due esperimenti di sorgente di cromo adesso vedremo cosa è stato fatto in queste date nel 94 e 95 quindi è stata prodotta una sorgente di neutrini artificiale al reattore Saclay e è stata portata dentro all'esperimento il primo risultato è stato di 83 e 4 più o meno di Cernove Snu il risultato finale a febbraio si conclude la presa data di Gallex nel 1997 il risultato finale è di 77.5 più o meno 7.7 snu per un totale di 75 eran solari e quasi 1600 giorni di esposizione a neutrini solari successivamente abbiamo osato fare quella che poteva sembrare una contaminazione voluta del nostro bersaglio iniettando arsenico 71 vedremo poi questo sperimento che abbiamo fatto e il suo motivo che ha verificato che l'estrazione quindi abbiamo verificato sperimentalmente l'efficienza di estrazione di tutto il processo radiochimico di estrazione dalla TENC e di sintesi del Germano e abbiamo verificato quindi che la parte radiochimica fosse certa al 100% che l'efficienza della parte radiochimica fosse al 100% l'esperimento della sorgente di cromo l'esperimento della sorgente di cromo è stata fatta una sorgente di neutrini artificiale a saclay esponendo cromo 50 al reattore che produce a produrre cromo 51 il cromo 51 è instabile decade in vanadio 51 con una emivita di 27-7 giorni e fortunatamente con emissioni di pochissimi di gamma di bassissima energia questo ha permesso di schermare la sorgente produrla schermarla con una schermatura di tungsteno di spessore adeguato e di portarla ai laboratori della Gran Sasso in sicurezza e di inserirla nel nostro bersaglio e di irraggiare quindi il nostro bersaglio con una sorgente di neutrini artificiale questo è stato l'unico esperimento insieme a SAGE che sono stati calibrati con sorgenti di neutrini questo perché la sezione d'urto di transizione del gallio 71 in germaglio 71 sullo stato fondamentale era nota con un errore molto molto buono dell'ordine di pochi per cento mentre invece la sezione d'urto di transizione del gallio 71 sugli stati eccitati i primi due stati eccitati del germaglio 71 era nota con un'incertezza molto più grande dell'ordine del 6 per cento 7 per cento quindi era importante per poter avere un errore del risultato finale dell'esperimento GALLEX dell'esperimento del gallio per avere un errore piccolo sulla misura sperimentale conoscere il valore della sezione d'urto complessiva ecco vi do sono state fatte due esposizioni alla sorgente in due anni successivi come ho mostrato nella tabella della cronistoria prima e la media che si è avuta diciamo dell'atteso del misurato verso atteso è stato del 91 per cento più o meno 0.08 quindi con un errore dell'8 per cento questo questo risultato è stato poi molto a lungo diciamo seppur compatibilmente compatibile con il 100 per cento del rapporto atteso sperato fra misura e fra misurato e atteso questo valore è stato poi chiamato la cosiddetta gallium anomali negli anni successivi questa gallium anomali è entrata poi in analisi complessive ha dato spazio ai neutrini sterili alle ipotesi dei neutrini sterili ma per ora non abbiamo non abbiamo mai potuto potuto rifare in GNO un'altra esposizione al cromo perché l'esperimento poi non è stato non è stato concesso il test di arsenico ne ho già parlato il test di arsenico è stato fatto iniettando nel bersaglio nel nostro bersaglio circa 10.000 atomi di arsenico 71 che sono stati generati a un acceleratore artificialmente è stato messo nella tank sono stati fatti test di estrazione il germano l'arsenico 71 ridecade in germano 71 e mi mando la stessa cinematica che viene che avviene quando c'è un'interazione di neutrino con gaglio 71 e questo esperimento dell'arsenico ci ha permesso di certificare che l'efficienza di estrazione fosse del 99% con errore di 1% 1% e e di quindi verificare che non ci fossero effetti cosiddetti di hot chemistry nel nostro nel nostro esperimento questo plot riporta i risultati finali di gallex come ho detto 77.5 più o meno 7.7 snu insieme a quelli di sage che era l'esperimento parallelo competitor in urs e questo vedete l'evoluzione nel tempo e anche soprattutto come si riducono le barre di errore dei due esperimenti nel tempo gno soppianta gallex soppianta prosegue non lo soppianta con lo stesso bersaglio naturalmente con alcune migliorie che adesso vedremo inizia la presa dati il 20 maggio del 98 abbiamo fatto tre pubblicazioni una sottoparte della collaborazione gallex partecipa a gno e abbiamo esposto il bersaglio nuovamente per circa 1687 giorni 1700 giorni il rate finale di misurato da gno è di 62.9 più o meno 6 snow abbiamo fatto importanti modifiche siamo riusciti a in questi con questi miglioramenti dell'apparato complessivo a ridurre di un fattore circa 2 l'errore sistematico di gallex quindi gno ha avuto un errore sistematico finale di circa il fattore 2 migliore rispetto a gallex e qui sono elencati le modifiche miglioria che abbiamo fatto rimisurato il counting efficiency di ogni rivelatore migliorato la parte di analisi e le radon cutting efficiencies questo è il cosiddetto davis plot lo chiamiamo davis plot di tutte le prese iran solari di gallex e di gno e il rate complessivo misurato qui sono riportati anche le due date con queste righe verticali tratteggiate i due esperimenti di cromo e l'esperimento di arsenico questa interruzione presa dati è il tempo di miglioramento dell'esperimento fra gallex e gno quindi questo è il risultato finale dell'esperimento del gallio al gran sasso 69.3 più o meno 4 più o meno 3 sedi sistematico il segnale osservato era validato dalla distribuzione in energia degli eventi nei contatori proporzionali sia dalla loro distribuzione in energia si vedevano gli eventi il picco K L il picco K degli eventi del decadimento del giovane 71 in gallio 71 e anche dalla misura della distribuzione dal fit della distribuzione temporale di questi decadimenti quindi si è trovato un tempo in me vita che è del tutto compatibile con quello pubblicato con quello dei database vediamo le implicazioni diciamo astrofisiche se possiamo dire abbiamo analizzato i nostri dati abbiamo cercato le modulazioni stagionali ma non avevamo la significatività per 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 diciamo per non avevamo la sensibilità per poter con le statistiche dell'esperimento per poter verificare la modulazione stagionale legata all'orbita terrestre e quindi questa questa misura non ha dato un risultato significativo in che cosa sono stati significativi e qui abbiamo poi combinato il risultato di galles con quello sage finale e questo è il risultato combinato dei due esperimenti 68.1 più o meno 3.75 quindi con un errore di 5.5% all'inizio degli anni 2000 ecco questo a mio avviso è stato uno dei risultati principali che ha poi dato come si dice un constrain alla fisica dei neutrini solari e alla fisica sperimentale dei neutrini solari e alle conoscenze dell'epoca stiamo parlando della fine degli anni 90 inizio degli anni 2000 con certe assunzioni scusate con certe assunzioni che sono semplicemente che la cosiddetta luminosity constraint cioè che l'energia emessa in luce dal sole l'energia emessa dai neutrini siano strettamente correlate e con la misura dei neutrini da brotto da snow e supercamiocande e prendendo il valore del brillo 7 dal modello di backup sono del 2004 abbiamo potuto mettere questi limiti sul flusso dei neutrini del CNO dal sole di 5-6% a 3 sigma questo plot vi dice questo quindi a 3 sigma abbiamo potuto solo con i risultati di GALLEX e GNO mettere un limite al 7% e con includendo i risultati di 6 al 5-6% ecco questo è un risultato che è stato poi diciamo confermato soppiantato da quello di Borexino 15 anni dopo anche di più 17-18 anni dopo quindi è stato un risultato secondo me veramente significativo e importante che ovviamente è stato pubblicato sempre nell'ambito delle stesse assunzioni siamo riusciti a quindi determinare che il flusso a risalire al flusso dei neutrini PP seppur in modo indiretto e utilizzando il modello come diciamo boundary condition del nostro calcolo siamo riusciti a trovare che l'accordo fra i neutrini solari e il flusso dei neutrini di PP e l'atteso era dell'uno era assolutamente uno questo nell'assunzione di oscillazioni di neutrini questo è un plot che ho preso un articolo di Aldo del 2014 o 2015 non ricordo ecco quindi come vedete il nostro risultato il risultato degli esperimenti del gaglio hanno vincolato i modelli di oscillazioni a bassa energia e li hanno resi diciamo e li hanno verificati a bassa energia quindi questo plot riporta le probabilità di sopravvivenza dei neutrini solari usando in input un modello solare standard a bassa metallicità e le previsioni di parametri di oscillazioni della soluzione a grande angolo per le oscillazioni di neutrini nella materia le conclusioni gli esperimenti del gaglio ho mostrato hanno confermato l'origine termonucleare dell'energia solare e hanno confermato e rivelato che il ciclo dominante nel sole è quello del pipì mi dispiace dissento un po' dall'affermazione che ho sentito poc'anzi da Francesco Vissani ma il risultato dei neutrini solari non poteva essere spiegato in nessun modo salvo che la stella sole non esistesse non fosse quella che vediamo tutti i giorni con la luce che ci manda non poteva essere spiegato altro che con il flusso di neutrini dal pipì non esisteva un modello che permettesse di aggiustare il nostro risultato con l'assenza di neutrini dal pipì e hanno anche i nostri risultati dimostrato che i contributi del beriglio e del CNO sono propriamente discritti dallo standard salomode hanno confermato i meccanismi delle oscillazioni a energia del submev l'energia del pipì e quindi che le oscillazioni convolute con modello solare BP04N14 erano diciamo propriamente descrivevano i valori sperimentali non abbiamo osservato modulazioni temporali non avevamo la sensibilità per questo né stagionali né mensili né bimensili né annuali e abbiamo calibrato l'esperimento con neutrini da sorgenti artificiali gli unici esperimenti che hanno fatto questo sono stati gli esperimenti del gallio sia in URSS sia SAGE e GALLEX ci sono stati anche molti risultati tecnologici e vorrei vorrei ricordare le persone che hanno lavorato e che sono mancate oramai e hanno lavorato con noi che sono mancate e soprattutto vorrei ricordare Enrico che è stato il direttore dei laboratori scusatemi commuovo è stato la persona che ha fatto molto perché questi progetti del gallio fossero perché GALLEX venisse installato ai laboratori è stato mio compagno di vita e con questo ho finito grazie 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 mille per la presentazione molto bella interessante anche perché ci ricorda di queste grandi avventure che sono state fatte qua al laboratorio iniziate appunto con GALLEX poi Borexino eccetera quindi facciamo queste giornate pure perché queste cose restino nella memoria e l'importanza di risultati veramente importanti fatti proprio qua al laboratorio ci sono domande per Carla anche da remoto non so se qualcuno vuole scrivere in chat complimenti no e direi che so che il PIRSTEN è stato proposto più volte e e penso che veramente è una persona che avrebbe avrebbe a mio avviso diciamo ha ricevuto delle nomination poi questo il premio non gli è stato concesso ma ma veramente è la persona che ha reso possibile lui Cabibbo Puccio sono le persone chiave che hanno reso possibile questo esperimento qui ai laboratori e che ha proseguito le osservazioni per così tanto tempo e ha diciamo aperto la strada a Borexino e ha consolidato i risultati sui neutrini solari a basse energie va bene siccome non abbiamo molto tempo a questo punto passerei direttamente alla presentazione successiva abbiamo con noi Riccardo Biondi che ci parlerà con una breve riepilogo dei risultati di Borexino e anche del recente risultato della modulazione stagionale del flusso dei neutrini se mi metto qui impallo la presentazione o va bene così? ok vedete bene ok buongiorno a tutti allora io diciamo questo talk è un po' il seguito del talk di Nicola e parlerò un po' dei risultati di Borexino e in particolare del risultato della misura della modulazione stagionale del flusso dei neutrini che è stato possibile ottenere soltanto grazie alla straordinaria stabilità e comprensione del background nell'ambito del rivelatore Borexino quindi un piccolo sommario sommario della situazione insomma sappiamo come abbiamo ricapitolato dai talk precedenti che il sole è alimentato da reazioni di fusione nucleari il cui bilancio complessivo è questo schematizzato in questa piccola formula ma in realtà la cosa non è così semplice perché ok da 4 protoni ottengo un nucleo di elio 2 positroni 2 neutrini e energia ma questo processo avviene attraverso due serie di reazioni che sono identificate come catena PP e ciclo CNO in queste serie di reazioni alcune quelle che sono evidenziate con colori diversi producono dei neutrini è da sottolineare il fatto che nel quanto riguarda il sole come è stato detto già in precedenza la catena PP è quella dominante che provvede dal 99% della produzione di neutrini solari mentre il CNO è sottodominante dell'ordine del 1% nel plot che vedete qua a destra potete vedere con il stesso codice di colori come si distribuiscono le energie dei neutrini prodotti dalle varie reazioni e quali tipi di tecniche sperimentali possono essere utilizzate per rivelarli no troppo ok e quindi per rivelarli utilizziamo appunto Borexino che è questo esperimento che è stato situato al laboratorio del Gran Sasso che è costituito da un rivelatore a scintillatore liquido molto puro questo scintillatore è un materiale che emette luce quando viene attraversato da una particella carica in questo caso la particella carica sono gli elettroni stessi dello scintillatore che vengono colpiti scatterati dal neutrino solare in arrivo attraverso corrente neutra o carica e vengono appunto ricevono questa spinta e si muovono attraverso il materiale scintillante di qua è meglio? ok perché non volevo dare spalle la cosa va bene comunque dicevo il rivelatore è strutturato a cipolla diciamo in cui la parte più interna che era chiusa da un una sfera di nylon è quella più pura per pura si intende più pulita da elementi radioattivi che possono produrre altri eventi che generano altre cariche movimenti e quindi altra luce di scintillazione quindi la parte più interna è costituita da questa sfera di raggio di circa 4 metri che contiene 300 tonnellate di scintillatore liquido che è uno pseudocumene uno scintillatore organico che è il cuore interno del rivelatore tutto ciò è circondato da un buffer dove lo stesso materiale pseudocumene è disciolto in un altro quencher che inibisce la scintillazione quindi questo impedisce al background esterno di produrre luce all'interno della zona sensibile tutto questo è ancora una volta incapsulato all'interno alla sfera di acciaio inossidabile dove sono installati circa 2200 fotomoltiplicatori che sono quelli che appunto riescono a leggere la luce prodotta dall'interazione all'interno del cuore del rivelatore centrale il tutto a sua volta è ancora incluso all'interno di una water tank di raggio 9 metri la più grande che abbiamo qui ai laboratori del Gran Sasso e che funziona da scudo e da veto per eventi di muoni cosmici borexino è in grado di misurare l'energia della particella colpita dal neutrino e qui che è proporzionale all'energia del neutrino incidente e la posizione all'interno del rivelatore in cui è avvenuta l'interazione questo ci da quindi due informazioni posizione dell'interazione e energia come dicevo i liberatori sono all'interno del laboratorio del Gran Sasso dove il il flusso di muoni cosmici è soppresso di un fattore un milione quello che vedete qua nel colore più scuro è lo spettro ovvero gli eventi distribuiti per energia secondo un certo estimatore che vede borexino senza alcun tipo di analisi quindi l'unica cosa evidente è il picco del background del carbonio 14 vanno poi applicati vari tagli in analisi come l'eliminazione dei muoni attraverso il veto oppure il cut del volume fiduciale ovvero si prendono in considerazione soltanto gli eventi della parte più interna della sfera di nylon quindi quella più pura e più protetta dall'esterno e questo è possibile soltanto grazie al fatto che possiamo misurare la posizione dell'interazione inoltre si possono fare altri tagli sugli eventi dovuti al carbonio 11 quello che otteniamo è questo uno spettro in energia dal quale possiamo estrarre le informazioni sui rate di interazioni delle varie specie e per specie intendo i neutrini solari che sono questi in rosso delle varie reazioni della catena PP e del ciclo CNO e le varie componenti di background come potete vedere qua il polonio 210 il krypton il carbonio 11 e il bismuto questo viene fatto attraverso una tecnica che si chiama fit multivariato in cui si utilizzano le informazioni date dalla energia degli eventi e la posizione qui ho riassunto un po' la storia di Borexino che comincia negli anni 90 praticamente siamo quasi quasi coetari dove c'è stata la prima idea di avere un rivelatore di neutrini solari con una soglia al di sotto del MEV e poi negli anni successivi sono stati fatti dei test sulla radiopurezza che si poteva ottenere utilizzando anche la struttura CTF che è un prototipo che vedete qua nella foto e poi dopo vari processi di approvazione dell'esperimento è iniziata la vera e propria presa dati che parte dal 2007 arriva fino alla fine del 2021 la presa dati è divisa in tre fasi che chiamiamo fasi 1, 2 e 3 che sono diciamo marcate da degli upgrade di hardware come delle purificazioni o l'isolamento termico e qui ho elencato alcuni dei risultati che sono stati fatti durante le varie fasi e tutto termina a ottobre 2021 con decommissioning in termini tecnico lo smantellamento del rivelatore qui in questa tabella ho diciamo elencato i risultati di Borexino sui rate e quindi sui flussi dei neutrini solari delle varie specie quindi delle varie componenti della catena PP e del ciclo CNO potete vedere che Borexino sta in grado di fare delle misure di precisione di tutti i rate dei neutrini prodotti nella catena PP in particolare voglio sottolineare la misura all'ordine del 3% del rate di Beriglio 7 e per la prima volta al mondo è stato in grado di misurare il rate di interazione del ciclo CNO con un'evidenza con l'ultima dosetta dell'ordine di 7 sigma e quindi di avere la prima piccola diciamo traccia di misura se vogliamo della metallicità totale ovvero dell'abbondanza degli elementi più pesanti dell'elio all'interno del nucleo del sole tutto questo per arrivare a questo concetto che ha spesso Nicola poco fa quindi ritorniamo all'astronomia e quindi sappiamo appunto che il flusso di neutrini che arriva a terra è modulato annualmente a causa del fatto che la distanza terra-sole cambia lungo l'orbita per via dell'eletticità dell'orbita sappiamo dalle misure astronomiche il valore in modo molto preciso dell'eccentricità dell'orbita questo è soltanto un'approssimazione in realtà sono varie cifre significative in più rispetto a questo e se andiamo a vedere l'effetto sul flusso dei neutrini solari sappiamo che si aggiunge una modulazione dell'ordine di due volte l'eccentricità quindi una modulazione al circa 3-34% sul flusso di neutrini aspettato vogliamo provare a misurarlo con Borexino per questo selezioniamo i dati della fase 2 e fase 3 nella quale rispetto alla fase 1 i background sono più più similari rispetto a quello che avevamo nella fase 1 e si fa un taglio di volume fiduciale di 3 metri di raggio quindi si usano soltanto gli eventi all'interno dei 3 metri più interni del rivelatore si fa anche un taglio in energia quindi si seleziona quest'area gialla qua che è principalmente dominata da questo spettro rosso che è quello del beriglio 7 ma anche se fate caso sono presenti anche i neutrini del CNO e del PEP e il background principale che è quello di questo picco gaussiano qua è quello del polonio 210 che fa dei decadimenti alfa che però possono essere discriminati dal resto degli eventi attraverso un'analisi di pulse shape quindi di forma dell'impulso che è rilevato quindi questo fondo può essere abbattuto con un'efficienza maggiore del 99% come analizziamo i dati il metodo è basato su una generalizzazione dell'algoritmo di Lomb-Skergle che non è un altro che una generazione a stavolta della trasformata di Fourier e attraverso un rapporto di likelihood quindi si costruisce il rapporto di likelihood fra l'ipotesi di flusso di neutrini costante e quella di flusso di neutrini modulato e se si prende il logaritmo negativo di questo rapporto di likelihood questo sarà esponenzialmente distribuito sotto l'ipotesi nulla quindi come vedete qua e sarà anche lo spettro likelihood del segnale che vuol dire che condivide esattamente le stesse proprietà del peritogramma che si ottiene da una Lomb-Skergle un'altra cosa di cui dobbiamo tener conto è che ci sono dei background che variano nel tempo per esempio il rate del polonio che di cresce esponenzialmente con l'andare del tempo perché questo non l'ho detto prima i dati che stiamo prendendo sono lungo dieci anni di presa dati di Borexino quindi questo dobbiamo fittarlo con un modello che non è altro che una doppia esponenziale e sottrarlo dai dati possiamo fare uno studio di sensitività basato su sulla creazione di Time Monte Carlo dataset e quello che otteniamo è un P-Value per la sensibilità che è maggiore di 4 sigma fra 4 e 5 sigma andando ai dati veri e propri li potete vedere qua questa è la Time Series è appunto dei dieci anni di dati come vedete c'è una componente di background che decade nel tempo quindi qui potete vedere i dati che sono binnati in intervalli temporali di 30 giorni e una volta sottratto il trend globale otteniamo dei residui ai quali possiamo applicare appunto la generalizzazione del metodo Lomb-Skerkel quello che otteniamo è questo spettro qua come vedete c'è un picco chiaramente a un ciclo per anno quindi corrispondente appunto al periodo orbitale che ha una significatività di 5.3 sigma possiamo a questo punto fare un semplice fit periodico sui residui e estrarre i parametri orbitali come vedete possiamo estrarre l'ampiezza dell'oscillazione il periodo dell'oscillazione che come vedete è compatibile all'1% con il periodo orbitale misurato astronomicamente quindi un anno la fase e l'ampiezza sono compatibili entro 1 sigma con quello che ci si aspetta dai risultati astronomici e inoltre l'ipotesi di non se guardiamo questo profilo di chi quadro sull'ampiezza l'ipotesi di nessuna modulazione è rigettata quasi a 6 sigma dall'ampiezza appunto tramite questa formula possiamo estrarre l'eccentricità dell'orbita che è questo valore che è stato mostrato da Nicola prima e possiamo metterlo in questa bella tabella insieme a tutti gli altri valori ottenuti dagli altri esperimenti come GALAX GNO Snow e Supercambio grande il valore citato da Newton nei principi matematici della filosofia naturale e questa linea senza barra d'errore che è la misura dell'astronomia moderna perché l'errore è veramente piccolissimo e questo punto rosso invece è il risultato che otteniamo con Borexino come vedete è compatibile dentro una sigma con il risultato con la misura astronomica con Borexino possiamo fare molto di più ovvero possiamo avendo una così alta statistica di eventi possiamo costruire dei bin più piccoli bin temporali più piccoli e quindi spingere in avanti il limite posto dal teorema di Nightwist e analizzare frequenze oltre un ciclo per giorno quindi controllare se ci sono degli effetti giornalieri sulla modulazione del flusso dei neutrini questa di nuovo è la time series i residui e lo spettro qui si vede poco ma qua c'è il picco a un ciclo per anno e come vedete non ci sono altri picchi significativi sullo spettro la significatività di questi picchi è stata stimata con look al seguire effetto possiamo zoomare nella zona in cui ci aspettiamo la modulazione giornaliera vedete che non ci sono picchi effettivi a un ciclo per giorno questo era già stato analizzato da Borexino nella fase 1 ottenendo questo risultato possiamo ottenere un risultato simile fittando i residui con una semplice funzione periodica e quello che otteniamo è questo risultato qua che è compatibile con zero entro la sigla quindi riassumendo grazie alla stabilità in risposta e risoluzione energetica e la capacità di capire bene i background inclusi dentro Borexino siamo stati in grado di utilizzare dieci anni di data taking di Borexino per studiare effetti di modulazione annuali è comparsa soltanto la modulazione annuale prevista dall'eccentricità dell'orbita terrestre e tutti i risultati sono compatibili entro una sigma con le misure astronomiche e l'assenza di modulazione è scusa più di cinque sigma questo abbiamo ottenuto la misura più precisa dell'eccentricità dell'orbita terrestre utilizzando solo i neutrini solari e possiamo porre limiti sulla modulazione diurna e se ci pensate il fatto che Borexino vede una modulazione annuale dei rate implica che conferma l'origine solare del segnale che vede e questo è tutto grazie qualche domanda veloce per Riccardo in sala oppure terremoto che succede posidroni bella domanda chiaramente i posidroni essendo una componente di antimateria quando incontrano il loro corrispettivo di materia vanno sotto un processo che si chiama annichilazione e producono due fotoni gamma e quindi si perdono sostanzialmente non riescono mai a uscire dal nucleo del sole domanda ottimo lavoro una domanda diciamo una ventina di anni fa queste modulazioni temporali andavano particolarmente di moda perché c'era la possibilità l'idea che ci fossero effetti magnetici al posto delle oscillazioni che conosciamo adesso e c'era una serie di articoli che riportavano una modulazione con un periodo di 28 giorni che è quello di rotazione chiaramente poi sono state smentite da tutti i dati ma c'era un residuo in supercamiocande che mi sembra che sia stato adesso seppellito in modo definitivo cioè non ci sono frequenze a 27 giorni a 28 giorni che erano quelle che avevano stimolato una certa dose di letteratura al tempo Sì infatti abbiamo proprio guardato specificatamente proprio anche quella regione là e non ci sono da qualche parte un altro plot con lo zoom proprio in quell'area là e non ci sono frequenze non compaiono frequenze nello spettro Francesco aveva addirittura suggerito anche modulazioni settimanali dovute all'attività antropiche come potete confermare diciamo di influenze possibili prego veramente Francesco aveva fatto anche l'analisi sensibilità del metodo che avete messo a frutto nel 2001 con un lavoro con Alessandro Strumia avevamo incluso in un appendice esattamente il metodo che avete fatto perché sapevamo insomma che la grandissima potenzialità dell'esperimento e conoscevamo tra l'altro il lavoro di Luciano Pandora che aveva fatto con Galax e GNO affidato dalla collaborazione quindi io avevo massimo rispetto e considerazione sia delle cose che diciamo erano state fatte prima e grandissime speranze verso di voi che hanno superato anche le aspettative sì va bene grazie allora siccome siamo stretti con i tempi io passerei alla successiva Federico Ferraro che invece ci parlerà di un altro aspetto molto interessante per quanto riguarda la fisica del sole perché attraverso gli acceleratori come luna si studiano questi processi che avvengono all'interno del sole e quindi sono complementari agli studi dei neutrini solari proprio per capire come funziona la nostra stella e l'astrofisica in generale va bene allora sì intanto devo fare un disclaimer come prima cosa in questa stanza ci sarebbe una persona che conosce l'una molto meglio di me in realtà perché l'ho accurato e cresciuto fin dai primi anni si tratta di Mattias però cercherò di essere all'altezza della presentazione nonostante nel 91 quando l'una è cominciato io avessi appena cominciato a parlare quindi cominciamo col dire che l'una è un esperimento che si trova qui ai laboratori del Gran Sasso e è attivo in questi laboratori a partire dal 1991 dapprima grazie a un acceleratore di piccole dimensioni e di appena 50 kV di tensione di terminale massima installato in questa posizione qui all'interno dei laboratori sotterranei e successivamente a partire dal 2000 fino anche ai nostri giorni è attivo un altro acceleratore con tensione di terminale massima di 400 kV che è installato in realtà vicino alla sala vicino all'uscita dai laboratori sotterranei e infine proprio in questi giorni proprio in questo periodo sta prendendo vita veramente un nuovo acceleratore l'una megavolt che è installato all'interno della nuova Ion Beam Facility dei laboratori allora andiamo un po' più addentro a questa questione e cerchiamo di capire per quale ragione è interessante mettere un acceleratore all'interno dei laboratori del Gran Sasso innanzitutto l'idea è dovuta a queste tre persone Gianni Fiorentini Klaus Rolfs ed Enrico Bellotti che quando il laboratorio era in via di preparazione il laboratorio sotterraneo del Gran Sasso hanno avuto l'idea di installare al suo interno un acceleratore per l'astrofisica nucleare e questo perché sostanzialmente perché visto che i raggi cosmici primari interagiscono in atmosfera vengono creati dei raggi cosmici secondari tra i quali moltissimi muoni che interagendo con i nostri rivelatori nascondono il segnale interessante che a noi interessa cercare e qui a destra vedete come esempi due spettri gamma ottenuti con un rivelatore al germanio dove si può vedere uno spettro in grigio che è stato acquisito in un laboratorio in superficie non sotterraneo e come vedete sopra ai tre MEV sopra i due MEV e mezzo in realtà i due MEV e sei esiste un fondo non trascurabile dovuto proprio all'interazione dei raggi cosmici con il rivelatore mentre nello spettro che vedete in nero questo fondo è praticamente inesistente è attenuato di un fattore 10 alla 4 ci sono quattro ordini di grandezza di differenza circa su questo tipo di fondo e questo sostanzialmente è dovuto alla schermatura che offre naturalmente la roccia che sovrasta a questo rivelatore si può andare a vedere cosa succede anche a rivelatori di particelle cariche in questo caso vediamo gli spettri di un rivelatore al silicio e vediamo che in tutto un intervallo di energie che va da poche centinaia in realtà anche poche decine di Kev fino a circa 3 Mev il fondo nei laboratori sotterranei anche per questo tipo di rivelatore sia sostanzialmente abbassato di un fattore circa 10-15 quindi anche per questo tipo di reazioni che coinvolgono particelle cariche è conveniente andare nei laboratori sotterranei ora entriamo un po' più nello specifico questa è una fotografia del primo acceleratore che è stato installato ai laboratori si tratta di un acceleratore elettrostatico che poteva accelerare fasci di protoni particelle alfa quindi elio 3 e elio 4 con una tensione di terminale compresa tra 3 e 50 kV una corrente molto alta perché si tratta di 500 mA circa e un bassissimo spread energetico di circa 20 lV una stabilità molto buona di 0,4 elettronvolt all'ora in modo da consentire misure che fossero anche prolungate nel tempo il secondo acceleratore che è stato installato come vedete ha dimensioni ben più importanti mentre prima si parlava di un oggetto che potrebbe stare sopra un banale un qualsiasi tavolo da pranzo come dimensione qui si tratta di un oggetto ben più grande e complesso come potete vedere c'è addirittura se riesco a farvelo vedere qui una persona si tratta di Rosanna De Palo che si è messa lì nell'angolo per avere una comparazione delle dimensioni con questo oggetto e per questo acceleratore abbiamo la possibilità di accelerare fasci di protoni elio 3 e elio 4 e abbiamo due linee di fascio una bersaglio gassoso quella che vedete in alto una bersaglio solido e la tensione di terminale va tra i 50 e i 400 kV la corrente per ciascuna specie accelerabile è molto alta fino a 1 mA per gli ioni di idrogeno quindi protoni e fino a 500 mA per alfa allo stesso modo anche le caratteristiche del fascio dell'acceleratore consentono misure di elevata accuratezza per periodi prolungati nel tempo ora proprio in questo periodo si sta svolgendo l'ultima fase del commissioning del nuovo acceleratore l'una megavolt che come vi ho detto farà parte dell'Ion Beam Facility dei laboratori nazionali del Gran Sasso questo è anch'esso un acceleratore elettrostatico consentirà di accelerare fasci di protoni alfa e carbonio e questa è una caratteristica che lo rende molto interessante unico nel suo genere anche questo acceleratore avrà o meglio ha già due linee di fascio che inizialmente verranno utilizzate una per un bersaglio di tipo solido e l'altra per un bersaglio di tipo gassoso e la tensione del terminale va tra 400 kV in realtà anche qualcosina di meno fino a 3,5 megavolt questo consentirà quindi di accelerare tutte queste specie che vediamo qua sotto con alte correnti di fascio per esempio possiamo anche vedere che il carbonio doppiamente ionizzato potrà arrivare addirittura volendo fino a 7 megavolt ora le caratteristiche di questo fascio del fascio generato da questo acceleratore dipendono come vedete dalla tensione di terminale ma vi posso assicurare che sono caratteristiche strabilianti per un acceleratore per una macchina di questo tipo che consentiranno di fare una fisica decisamente di punta ora andiamo un po' più nello specifico vi ho detto che vi parlo di luna dei risultati di luna luna cosa studia studia l'astrofisica nucleare luna la parola luna sta per laboratory for underground nuclear astrophysics e l'astrofisica nucleare è quella branca che unisce un pochino la fisica nucleare con l'astrofisica e determina vuole determinare meglio come vengono prodotti gli elementi all'interno di diversi di diversi ambienti astrofisici che possono andare dal big bang fino alla nucleosintesi stellare quiescente o esplosiva e in questo studio è di fondale importanza la misura delle sezioni d'urto di questi processi nucleari questo perché le sezioni d'urto di questi processi sono strettamente connesse con diversi ambiti quali per esempio l'evoluzione dell'universo primordiale l'evoluzione stellare la nucleosintesi degli elementi all'interno di questi ambienti ma anche l'astronomia la formazione e l'evoluzione del sistema solare e in particolare i neutrini solari ora ho nominato il sole che cos'è il sole lo abbiamo in parte già visto cerchiamo di dire qualche altra cosa beh intanto possiamo dire che il sole è una stella in sequenza principale ovvero occupa in questo diagramma di Herzbrun-Russell un luogo geometrico individuato da un insieme di stelle che si dispongono su questa linea e possiamo dire che nella parte centrale del sole ovvero nel suo nucleo avviene la combustione dell'idrogeno e questo fatto caratterizza tutte le stelle che stanno proprio in sequenza principale ovvero in quel luogo di punti individuato da quella linea sul diagramma di Herzbrun-Russell ora la combustione dell'idrogeno non è un singolo processo ma un insieme di processi che complessivamente portano alla formazione di un nucleo di elio a partire da quattro protoni da quattro nuclei di idrogeno ora vediamo quali sono questi processi intanto abbiamo già visto oggi che parte di questi processi sono racchiusi nella catena PP quindi la catena protone e protone come vedete qui vi ho riportato un'immagine che mostra questi processi si vede che questa catena protone-protone è composta da diverse ramificazioni diverse ramificazioni che coinvolgono molte reazioni nucleari alcune delle quali sono responsabili della produzione di neutrini e vediamo che ciascuna ramificazione ha una probabilità diversa di essere popolare a seconda appunto della sezione d'urto e quindi della probabilità che ciascuna reazione avvenga in secondo luogo c'è il ciclo CNO e qua vedete in realtà come un B-ciclo ovvero è composto da un primo ciclo che vedete qui e da un secondo ciclo che è questo che sto indicando ora alla temperatura del nucleo solare che è di circa 15,7 milioni di gradi abbiamo che questi due cicli descrivono bene nel funzionamento del ciclo CNO ma a temperature maggiori il ciclo CNO si compone di altri sottocicli il CNO3 e il CNO4 che includono un'altra serie di reazioni che coinvolgono elementi via via più pesanti ora alla temperatura del nucleo solare queste reazioni che vi ho mostrato qua non sono da tenere in considerazione perché queste queste reazioni si attivano a temperature maggiori di quella del nucleo solare e quindi per stelle più massicce qui vi sto mostrando evidenziate le reazioni che fanno parte della catena PP e del ciclo CNO che l'una finora ha studiato ne ha studiate anche altre che non fanno parte della catena PP e del ciclo CNO ma qui vi sto mostrando quelle che fanno effettivamente parte di questo insieme di reazioni e ce ne sono in particolare tre delle quali vi voglio parlare quelle evidenziate con una cornice un po' più spessa vi faccio notare che però ce ne sono due che sono evidenziate in un colore giallino e queste sono reazioni in particolare la ossigeno 16P gamma fluoro 17 che è proprio in studio in questo momento stanno facendo i nostri colleghi turni nei laboratori sotterranei proprio per misurare questa sezione d'urto in questo momento e la azoto 14P gamma ossigeno 15 che è una reazione che verrà utilizzata per effettuare le prime misure con l'acceleratore luna megavolt per farne diciamo il commissioning finale e determinarne le caratteristiche ora a luna facciamo misure dirette le misure dirette rivestono un'importanza fondamentale in astrofisica nucleare per quale motivo beh allora la sezione d'urto può essere fattorizzata come vi sto mostrando in questa diapositiva in una parte in nero qui che non include effetti nucleari e una parte SdE evidenziato in rosso è chiamato fattore astrofisico che invece racchiude gli effetti nucleari dell'interazione ora la sezione d'urto ha la proprietà di decrescere molto rapidamente con il decrescere dell'energia in modo anche più veloce che esponenzialmente questo fa sì che le estrapolazioni risultino spesso difficili affette da grandi incertezze possiamo però escludere fattorizzare via la parte colombiana ed estrapolare il fattore astrofisico quindi solamente la parte nucleare dell'interazione però c'è un problema e il problema è che anche se stiamo tentando di estrapolare una funzione che varia lentamente con l'energia è possibile che in una regione di energie al di sotto di quelle che è normalmente che è normalmente possibile investigare ci siano per esempio delle risonanze e se ci sono queste risonanze beh ci fregano in qualche modo a questo punto la misura diretta a bassissima energia anche al di sotto delle energie tipicamente esplorabili in laboratori in superficie diventa fondamentale e questo è quello che cerchiamo di fare a luna ora c'è da dire una cosa quando si fanno misure dirette le sezioni d'urto sono molto piccole perché intanto perché quando andiamo a misurare una sezione d'urto una certa energia bisogna stabilire qual è l'energia che ci interessa andare ad esplorare e l'energia che ci interessa esplorare sono sostanzialmente determinate da due fattori in particolare questi sono la distribuzione delle velocità relative tra le coppie di particelle interagenti nel loro ambiente astrofisico che ci interessa investigare e la sezione d'urto di interazione tra queste due specie ora il tasso di reazione è quindi determinato sostanzialmente da queste due quantità che danno origine tramite questo integrale a quella che viene chiamata finestra di gamof ovvero a questo picco che vi ho evidenziato in colore viola in questa immagine e che tipicamente per processi di questo tipo di studio è compresa e centrata ad energie di poche decine di kev o centinaia di kev dove le sezioni d'urto sono estremamente basse parliamo di sezioni d'urto intorno al picco barn o pochi ordini di grandezza diverse dal picco barn quindi parliamo di sezioni d'urto che vanno tra i 10 alla meno 35 metri 10 alla meno 42 metri quadri a queste energie il numero di reazioni che misuriamo in laboratorio può essere estremamente basso è vero che possiamo avere alcune reazioni a certe energie che ci potrebbero dare tassi di conteggio dell'ordine di migliaia di conteggi al giorno ma possiamo anche avere reazioni e dopo vi farò vedere un caso in cui il tasso di conteggio atteso è di sole poca unità di reazioni al mese allora vi voglio mostrare tre reazioni in particolare che ritengo fondamentali che si sono dimostrate fondamentali per la fisica solare in passato e anche attualmente partiamo dalla prima la helio 3 helio 3 2p helio 4 ora questa reazione è stata determinante nel corso del tempo per stabilire il fatto che il problema dei neutrini solari non aveva un'origine nucleare in particolare luna nel 91 è nato proprio per questo motivo e si cercava all'interno della finestra di Gamow di questa reazione che era intorno ai 20 keV una possibile risonanza che avrebbe alterato sostanzialmente la popolazione dei due diversi rami del ciclo PP uno dei quali è responsabile della produzione dei neutrini del beriglio 7 e del borotto quindi l'avere eventualmente trovato una risonanza in questa reazione avrebbe potuto risolvere il problema dei neutrini solari con una spiegazione nucleare così non è stato vediamo come è stata effettuata la misura che ha permesso di scartare la soluzione nucleare intanto è stato utilizzato l'acceleratore da 50 keV ed è stato utilizzato un bersaglio gassoso a pompaggio differenziale in principio diciamo il fascio attraversava questo bersaglio gassoso e i prodotti della reazione erano rivelati tramite dei telescopi delta E e poi sostanzialmente si è deciso di non utilizzare i telescopi al silicio ma di utilizzare i rivelatori al silicio spessi in questo modo diciamo è stato possibile rivelare i due protoni emessi dalla reazione in coincidenza e utilizzare queste coincidenze per ridurre il fondo il più possibile questo esperimento è stato il primo che è andato ad effettuare misure di sezione d'urto all'interno della finestra di Gamow e addirittura fino alla parte più a bassa energia della finestra di Gamow e diciamo per questo esperimento proprio la sezione d'urto era di circa 0.02 picco barne quindi ci si attendeva e si sono misurati i conteggi dell'ordine di 2 eventi al mese ora l'assenza di questa risonanza ha appunto permesso di scartare la soluzione nucleare al problema dei neutrini solari per questo diciamo riveste grande importanza nelle reazioni che Luna ha studiato in passato la seconda reazione della quale vi voglio parlare è la Helio 3 Alfa Gamma Berilio 7 che rappresentava la maggiore fonte di incertezza per i flussi dei neutrini solari della catena PP in particolare la motivazione per lo studio di questa reazione la possiamo ben vedere da questa lettera che è stata inviata da John Bacol nel maggio del 97 a Piero Corvisiero e Klaus Rolfs in cui si dice espressamente che questa reazione è di fondamentale importanza per avere delle misure più precise accurate del flusso dei neutrini solari o meglio per avere un'incertezza minore nella stima dei flussi attesi e la ragione per cui questa misura riveste una grande importanza nella determinazione dei flussi per esempio di quello dei neutrini del Borotto è che il fattore astrofisico di questa reazione che compare qui è quello determinante nel calcolo di questa incertezza qui abbiamo tutte incertezze relative questi delta S sono incertezze relative ora andiamo a vedere cosa si è fatto questa reazione può essere studiata tramite due metodi sostanzialmente intanto si possono rivelare gamma che vengono emessi istantaneamente durante questa reazione ovvero nello stato finale troviamo un gamma emesso dal decadimento del beriglio 7 dal decadimento gamma del beriglio 7 e poi però il beriglio 7 è un nucleo che decade con una emivita di circa 53 giorni quindi è anche facile andare a studiare il decadimento del beriglio 7 che avviene per cattura elettronica in litio 7 questi due metodi hanno portato nel corso del tempo a determinare il fattore astrofisico con queste due diciamo diverse tecniche le quali davano risultati che erano in discrepanza l'un l'altro di circa il 9% e questo diciamo determinava una grande fonte di incertezza per il flusso atteso di neutrini dal ciclo PP come abbiamo come hanno in realtà i miei predecessori agito a luna allora la misura è stata svolta all'esperimento Luna utilizzando l'acceleratore da 400 kV e un bersaglio gassoso a pompaggio differenziale sono stati utilizzati anche dei rivelatori al silicio per monitorare le proprietà del bersaglio in particolare la densità così che il numero di bersagli fosse costantemente tenuto sotto controllo è stato inoltre utilizzato un rivelatore al germanio schermato da una prima una prima shell una prima schermatura attorno ad esso di rame e una schermatura attorno anche al rame in piombo così che la radioattività ambientale non influenzasse gli spettri rivelati dal germanio ora è stato utilizzato anche un calorimetro dato che è stato utilizzato questo bersaglio gassoso per misurare la corrente di fascio e sul calorimetro è stato posto un endcap un inserto removibile così che il berriglio impiantato su questa superficie fosse misurabile in misura di attivazione i risultati di questa misura sono visibili in questo grafico in rosso vedete i punti di luna che sostanzialmente hanno permesso di avere una migliore stima del fattore astrofisico a bassa energia e si può vedere che l'incertezza sul flusso dei neutrini solari dal ciclo PP dovuto all'indeterminazione di S34 ovvero del fattore astrofisico dovuto a questa reazione è stata ridotta in modo sostanziale si è passati per il beriglio 8 da un 7 e mezzo di incertezza al 4.3% e per il beriglio 7 dall'8% al 4.5% l'ultima reazione della quale voglio parlarvi è la azoto 14 pigamma ossigeno 15 che è determinante per il ciclo CNO come vedete fa parte sia del ciclo CNO1 che del ciclo CNO2 e ha la proprietà di essere la più lenta di questo ciclo e come sappiamo la reazione più lenta del ciclo è quella che ne determina la velocità dal tasso di questa reazione dipende quindi il flusso atteso dei neutrini solari dal ciclo CNO perché appunto derivano dai decadimenti di beta più dell'azoto 13 e dell'ossigeno 15 e dipende sostanzialmente la metallicità solare la durata della combustione dell'idrogeno e quindi la permanenza del sole in sequenza principale inoltre come è stato visto in passato dal tasso di questa reazione dipende sostanzialmente anche l'età dei cluster globulari che è possibile osservare ora come vedete questa reazione avviene per cattura sia risonante che non risonante ai diversi stati eccitati dell'ossigeno 15 e questi stati eccitati possono essere popolati con dei facili protoni a queste energie che vanno a popolare diversi stati eccitati nel nucleo di ossigeno 15 e danno luogo a delle risonanze nella nella curva che rappresenta il fattore astrofisico per questa reazione come vedete però in questa zona qui a bassissima energia ovvero qualche centinaio di Kev abbiamo una differenza tra due diverse stime del fattore astrofisico due diversi fit che utilizzano la teoria della matrice R abbiamo una differenza che va fino a un fattore 50 e questo si ripercuote direttamente sul tasso di reazione atteso ora questa sezione d'urto è stata studiata in passato a Luna a partire dal 2004 sono usciti una serie di lavori su questa reazione e in particolare vediamo che alcuni di questi lavori hanno riguardato lo studio di questa reazione con un setup che includeva un bersaglio di nitruro di titanio quindi un bersaglio di tipo solido altri studi hanno riguardato un bersaglio di tipo gassoso con un altro tipo di rivelatore un rivelatore 4p greco al BGO invece che un rivelatore al Germano e infine un altro studio ha utilizzato un rivelatore al Germano segmentato per ridurre dei problemi di misura dei quali vi parlerò a brevissimo allora i primi due metodi di misura quelli che hanno utilizzato il bersaglio solido con il rivelatore al Germano e il bersaglio gassoso al rivelatore BGO sono stati effettuati in due intervalli di energia un po' diversi in particolare vediamo che con questo setup che ha incluso un rivelatore al Germano quindi dell'efficienza abbastanza bassa se andiamo a vedere e lo confrontiamo con il rivelatore al Germano di Bismuto diciamo questo rivelatore è stato utilizzato in virtù della sua altissima risoluzione energetica però vista la bassa efficienza ci si è limitati ad energie di fascio abbastanza alte in modo da avere un tasso di conteggio discretamente sufficientemente elevato per poter effettuare questa misura questo ha permesso la misura delle sezioni d'urto parziali e dei branching ratio analizzando le singole transizioni all'interno di questa di questa reazione il bersaglio gassoso con il rivelatore al Germano di Bismuto circa 4 pi greco invece ha permesso la misura della sezione d'urto totale in un intervallo energetico che è andato ben più in basso fino a 70 keV e quindi ben ben all'interno della finestra lì allora questi meglio vicino alla finestra di Gamow questi sono i risultati ottenuti da questa campagna di misura da queste due campagne di misura vedete i punti rossi e i punti neri che corrispondono alle due diverse campagne e questi hanno permesso di determinare la curva rossa ottenuta con un fit di matrice R e questo questo studio ha permesso di determinare il tasso di questa reazione che come si vede a temperature inferiori a 150 milioni di gradi questo è sostanzialmente diverso dal tasso di reazione precedente che era stato tabulato nella raccolta Necker voglio però ancora dirvi qualcosa su questa reazione perché è stato anche utilizzato un altro metodo di rivelazione ovvero un rivelatore al germanio segmentato con una schermatura anticonton attiva al germaneto di bismuto in modo da andare a minimizzare gli effetti di summing che sono stati determinanti in passato per altri studi che erano stati affetti appunto da problemi legati a questo effetto ovvero la transizione allo stato fondamentale ha sempre avuto dei problemi di misura per colpa di questo effetto di summing in pratica la coincidenza di due gamma nella cascata poteva essere poteva mimare la cattura allo stato fondamentale questo è tanto più un problema quanto più rivelatore affetto da questo problema di summing segmentando il rivelatore si riduce questo effetto di summing questa misura ha permesso di abbassare l'incertezza sul fattore astrofisico totale dovuta alla cattura al ground state siamo così passati da un'incertezza del 15% a un'incertezza del 4% su questa misura ora non è tutto perché non abbiamo finito ancora di studiare questa reazione in particolare questa sarà la prima misura che avrà con l'acceleratore luna megavolt all'interno dell'ion beam facility dei laboratori è questo argomento della tesi di dottorato di Alessandro che è lì in fondo e per questa misura verrà utilizzato un bersaglio solido e tre rivelatori al germanio disposti a diversi angoli in modo tale da poter effettuare anche misure di distribuzione angolare e verrà effettuata una nuova misura della cattura allo stato fondamentale che è ancora dibattuta in modo da risolvere eventuali problemi ancora esistenti su contributi dovuti al summing e si potrà procedere a partire diciamo da energia intorno ai 275 kV quindi vicini a una risonanza che già abbiamo potuto studiare con l'una 400 e si potrà arrivare anche al di sopra del megaleettronvolt così da determinare al meglio la sezione d'urto in un intervallo di energia il più ampio possibile e questo in passato non è stato possibile perché diversi dataset hanno guardato diversi intervalli energetici in modo diciamo non non integrato quindi alcuni esperimenti in un certo intervallo energetico altri esperimenti in un intervallo energetico diverso con diverse sistematiche e tutte queste tutti questi diversi studi diciamo sono affetti da incertezze sistematiche che danno poi problemi nella determinazione della sezione d'urto in tutto questo intervallo ora voglio evidenziare che una misura più accurata della sezione d'urto di questa reazione permetterebbe una migliore determinazione dei flussi di neutrini attesi dal ciclo CNO all'interno del sole e quindi vincolerebbe meglio la misura della metallicità solare che per esempio diciamo alla quale per esempio si è dedicato l'esperimento Borexino che ha pubblicato a dicembre mi sembra un articolo molto interessante in cui si dice che si esclude a due sigma la bassa metallicità del sole questa nuova misura potrebbe permettere addirittura di determinare al meglio il flusso di neutrini dal CNO attesi e quindi di migliorare addirittura l'esclusione della bassa metallicità da parte di Borexino in sintesi negli ultimi 32 anni vi faccio notare questa durata Luna ha contribuito allo studio di molte reazioni nucleari di interesse astrofisico alcune delle quali avete visto durante questa presentazione alcune di queste reazioni nelle quali Luna si è occupato hanno avuto un impatto enorme sullo studio dei neutrini e della fisica solare e vorrei che nessuno pensi che sia finita qui perché Luna continuerà a migliorare la conoscenza di queste sezioni d'urto e quindi vedremo cosa verrà fuori dalle misure all'acceleratore Luna Megavolt la collaborazione Luna oggi è composta da queste persone che ringrazio non posso nominarle una per una ma ringrazio tutte però il merito di queste misure che vi ho mostrato è dovuto sostanzialmente alle persone che hanno contribuito negli anni passati che sono magari non più nella collaborazione ma credo sia fondamentale nominare grazie grazie mille per la bellissima presentazione ci sono domande in sale oppure da remoto interessante che fate come run di commissioning proprio la sezione d'urto di interesse per il CNO questo è molto importante per noi come continuità ma quando ci saranno i primi risultati dipende da Alessandro e poi c'è una tesi di dottorato quindi dobbiamo aspettare tre anni no? è già il terzo anno il DSP quindi è al diosio di marzo ma che cosa? ci sono domande? ma poi la X17 la fate? la X17 è qualcosa che non si poteva pensare al 400 adesso che c'è il megavolt beh bisogna vedere è una cosa interessante bisogna vedere quando sarà il momento di scrivere eventualmente qualcosa se ci saranno le condizioni al contorno perché venga fatta questa misura va bene se non ci sono altre domande ringraziamo di nuovo Federico e passiamo all'ultimo talk della giornata al Doianni che invece ci parlerà del futuro della fisica dei neutrini solari e forse anche di qualche possibilità di avere questo elemento di continuità anche qua al laboratorio non direttamente ma con rivelatori che in realtà vengono costruiti per altri propositi che per esempio la ricerca di materia oscura grazie Nicola sì quindi faremo alcune considerazioni proprio su questo tema abbiamo visto come al laboratorio del Gran Sasso quindi negli ultimi trent'anni sono stati oggetto di studio i neutrini solari mediante la sinergia tra Galax GNO Borexino e Luna adesso vediamo diciamo in questa breve discussione quali sono le possibilità nel futuro ok quindi l'oggetto di analisi di questa discussione riguarda i neutrini cosiddetti di bassa energia non terrestri quindi tra questi abbiamo i neutrini solari che sono neutrini elettronici di cui abbiamo parlato ampiamente neutrini fossili da collasso gravitazionale cioè neutrini emessi da stelle che quindi estinte per collasso gravitazionale da qualche parte nell'universo e neutrini che si sono propagati fino ad arrivare qui sulla Terra e neutrini invece da collasso gravitazionale che può avvenire in tempo reale da qualche parte all'interno della galassia effettivamente domani ricorre il 36esimo anniversario dell'evento che è stato osservato in laboratori in sotterraneo il 23 febbraio del 1800 1987 quindi che è stata un'osservazione importantissima nonostante il numero esiguo di eventi registrati questo è lo spettro dei neutrini che prenderemo in considerazione quindi minore con un'energia inferiore a 100 MeV quindi sono i neutrini solari principalmente che abbiamo visto infatti il numero maggiore di questi neutrini elettronici a bassa energia e poi c'è una coda di neutrini a più alta energia con gli stessi neutrini fossili da collassi gravitazionali quindi che possono arrivare a diverse unità di 10 MeV quindi fino a circa i 50 MeV qui non sono rappresentati i neutrini da collasso gravitazionale nella galassia perché questi rappresentano un evento transitorio quindi di una durata molto limitata però vedremo lo spettro successivamente ed anche essi quindi arrivano un'energia quindi inferiore a 100 MeV ora i neutrini solari sono stati studiati da questi apparati sperimentali come abbiamo visto nella presentazione di Carla fin dal 1967 quindi ci sono 55 anni di attività qui e il laboratorio ha contribuito con ben due di questi esperimenti negli ultimi 20 anni la conoscenza quindi del neutrino solare quindi ci ha portato da un plot in doppia scala logarittima a un plot in scala lineare quindi è stato un excursus diciamo di 20 anni che ha contribuito in maniera sostanziale al progresso della ricerca in questo ambito questa è la comprensione attuale dei neutrini solari e quindi indirettamente del sole l'abbiamo già vista alcuni di queste misure quindi sono al di sotto quindi del 5% che cosa vogliamo imparare ancora da questa attività innanzitutto ridurre il numero di errore l'errore per esempio sul flusso dei neutrini PP sul flusso dei neutrini del CNO e anche studiare meglio la comprensione di questa transizione che abbiamo già visto nell'intervento di Carla in cui si rappresenta la probabilità di sopravvivenza dei neutrini solari sulla terra in funzione dell'energia quindi vediamo che a bassa energia circa il 50% di questi neutrini arriva sulla terra come neutrini elettronici ad alta energia qualcosa come il 30% quindi questa transizione è importante per capire in che modo il neutrino si propaga e interagisce nella materia ed è uno degli obiettivi di future misure quindi quello che vogliamo fare è cercare il futuro della ricerca dei neutrini solari e da supernova in ambito della ricerca di materia oscura questo è il nostro obiettivo o di neutrini di alta energia cioè con un'energia maggiore di un jeb facciamo una piccola digressione perché questa è la misura della velocità di rotazione dei pianeti nel sistema solare intorno al sole e la curva in rosso rappresenta la nostra conoscenza della teoria della gravità newtoniana quindi che approssima benissimo quindi questa la misura delle velocità di rotazione se applichiamo questa idea alle stelle che ruotano intorno al centro di una galassia presa quindi come esempio in questo caso vediamo che c'è una significativa differenza tra quella che è la previsione della teoria della gravità rispetto alle misure questa differenza da che cosa è dovuta quello che pensiamo è che sia dovuta alla presenza di materia oscura da che cosa è costituita la materia oscura allora una possibile teoria per la costituzione per la diciamo natura della materia oscura è che questa sia costituita da particelle debolmente interagenti cioè debolmente cioè con probabilità di interazione nella materia estremamente piccole e denominate WIMPs Weekly Interacting Massive Particles queste WIMP sono particelle primordiali cioè esistono fin dagli albori dell'universo e hanno una massa compresa tra 1 e diciamo 10.000 Gev quindi dove un Gev è circa la massa di un protone una densità locale che varia da 0,1 a 10 alla meno 4 per centimetro cubo il che vuol dire che in un litro diciamo in un volume dell'ordine di un litro ci possono essere da 1 a 100 WIMP e hanno un flusso che è dell'ordine anche inferiore al flusso dei neutrini solari da borotto quindi è un flusso piccolo quindi è una sezione d'urto estremamente bassa ora l'interazione di queste WIMP che andremo a studiare in particolare è l'interazione di una ipotetica particella con un nucleo bersaglio e questa interazione produce un rinculo del nucleo quindi con un'energia dell'ordine dei Kev quindi una bassa energia il numero di eventi che ci attendiamo da interazioni di WIMP con bersagli che hanno un'esposizione dell'ordine di una tonnellata per anno è estremamente basso quindi vedete sono quindi con nelle ipotesi indicate qui dell'ordine di 200 eventi per anno per tonnellata anche se oggi gli obiettivi sono a livello di 1 per anno per tonnellata questo numero di eventi quindi confrontato con la radioattività naturale è estremamente piccolo quindi questo implica che un rivelatore per WIMP dovrebbe avere le seguenti caratteristiche essere estremamente poco radioattivo essere installato in sotterraneo avere un alto potere di discriminazione tra eventi di fondo e eventi di segnale essere grande in massa per avere una grande esposizione quindi aumentare la probabilità di interazione di queste particelle e prendere dati per almeno 5 anni ci sono dei rivelatori già operativi al laboratorio di Gran Sasso che utilizzano quindi gas nobili chirogenici l'argon in particolare l'oxenon qui ho riportato alcune caratteristiche di questi gas nobili che non andremo a vedere tutte nel dettaglio alcune in particolare quindi abbiamo che quindi sono operativi a temperature al di sotto di 100 gradi centigradi sotto lo zero quindi hanno una densità che varia da 1 a circa 3 grammi al centimetro cubo quindi una abbondanza molto diversa nell'atmosfera quindi questo rende l'argon più facilmente diciamo la produzione dell'argon molto più facile rispetto a quella dell'oxenon scintillano con diverse lunghezze d'onda e hanno una componente di diseccitazione quindi molto diversa queste caratteristiche implicano poi una proiezione nel design dell'esperimento diversa quindi e obiettivi anche scientifici diversi ma complementari come funzionano queste diciamo rivelatori per WIMP che poi vorremmo applicare alla ricerca di neutrini solari quindi un volume di liquido di azoto di scusate di xenon o argon è la massa bersaglio di un'ipotetica particella di materia oscura che interagisce all'interno del liquido il quale quindi questa interazione produce quindi un deposito di energia quindi alcuni atomi sono eccitati altri sono ionizzati quindi l'effetto indotto di eccitazione di atomi e di ionizzazione dipende dalla quantità di energia che viene depositata per unità di percorso all'interno del liquido dalla particella e quindi particelle diverse quali elettroni oppure particelle alfa producono quindi ionizzazioni specifiche diverse quindi un certo un certo numero di questi atomi eccitati produce degli elettroni questi elettroni se soggetti ad un campo elettrico possono migrare quindi in questo caso nella direzione opposta del campo elettrico quindi e trasferirsi in un'altra zona dove il gas viene il liquido viene riscaldato quindi e gli elettroni estratti da un campo elettrico più intenso dell'ordine di kilovolt al centimetro e viene prodotto un secondo segnale di scintillazione quindi un primo segnale di scintillazione produce viene prodotto nel liquido e definisce quindi un segnale iniziale e anche il tempo dell'evento un secondo segnale di scintillazione viene prodotto dopo un certo ritardo che corrisponde alla migrazione degli elettroni verso la parte gassosa con una velocità dell'ordine di millimetri al microsecondo quindi produce un secondo segnale quindi nel gas l'insieme delle informazioni raccolte dai due segnali definiscono quindi le caratteristiche dell'evento e consentono anche ai ricercatori di discriminare in maniera molto efficace tra quello che è un evento di fondo e quello che è un evento di segnale allora un evento di fondo lo chiameremo nuclear recoil perché produce quindi un rinculo nucleare un evento di fondo lo chiameremo elettron recoil e la caratteristica di questi apparati è tale per cui come vedete in questo spazio dei parametri dove abbiamo diciamo la quantità di carica o di scintillazione prodotta dal segnale ritardato rispetto a quello diciamo iniziale in funzione di un parametro di discriminazione che dipende dalla forma diciamo del segnale principale quindi vedete in questo spazio dei parametri possiamo discriminare tra gli eventi di fondo i nuclear recoil e gli eventi di segnale i nuclear recoil e l'elettro recoil con un potere di discriminazione che può variare dall'ordine di 100 a 10 milioni ok quindi sono apparati che hanno un'altissima efficienza nella discriminazione tra segnale e fondo a questo punto quindi la domanda è la seguente questi oggetti quindi che chiamiamo come time projection chamber per la ricerca di materia oscura possono essere utilizzati per la ricerca di neutrini di bassa energia questa è la domanda a cui vogliamo rispondere considerato che le caratteristiche di reiezione del fondo considerate quindi i progressi per rendere questi oggetti sempre più massivi quindi aumentare l'esposizione e considerate quindi anche diciamo le capacità appunto di identificare quindi segnali di fondo intrinseco esterno cosmogenico allora se questi apparati sono oggetto di studio per i neutrini di bassa energia quali ad esempio i neutrini solari allora i canali di interazione sono due lo scattering elastico in cui un neutrino interagisce con un elettrone oppure lo scattering coerente neutrino nucleo in cui il neutrino interagisce con il nucleo bersaglio quindi in entrambi i casi quindi il segnale che andremo ad osservare quindi dipenderà dalla sezione d'urto cioè dalla probabilità di interazione dal flusso di neutrini in funzione dell'energia incidente quindi e dal numero di bersagli per unità di massa quindi avremo quindi uno spettro in unità di massa e di tempo che ci definisce il numero di eventi atteso questo è il caso nello scattering nel canale di interazione dello scattering elastico per grossomodo sia l'oxenon che l'argon in cui vediamo il numero di eventi da neutrino solare per anno per tonnellata di massa bersaglio quindi il segnale è dominato dai neutrini PP che sono questi in nero dai neutrini del beriglio 7 e a più basso rate dai neutrini del CNO e del PP C'è da notare quindi che queste energie sono in unità di Kev quindi qui abbiamo un 10 Kev quindi 500 Kev quindi sono un regime di bassa energia Ora alcune considerazioni vanno elaborate per i due casi che prendiamo in esame l'oxenon e l'argon nel caso dell'oxenon quindi i neutrini una finestra osservabile quindi è una finestra quindi per i neutrini PP che va da 1 a circa 10 Kev che è essenzialmente la regione di interesse operativa anche per la materia oscura in cui ci attendiamo qualcosa come 26 eventi per tonnellata per anno quindi il numero di eventi rispetto al caso anche del osservato per Borexino e GNO quindi è un numero di eventi limitato però è da tenere in considerazione per definire quali sono le esposizioni poi necessarie ad una misura per un'esposizione di 100 tonnellate anno questo vuol dire una misura del neutrino PP con un errore statistico del 2% per quanto riguarda invece i neutrini da CNO o PP la sensibilità è fondamentalmente limitata dalla presenza di xenon 136 intrinseco nel nostro rivelatore che decade doppio beta e con la sua attività essenzialmente oscura completamente quindi il segnale di neutrino solare al di sopra di questi 10 keV a meno che non si produca uno xenon purificato da questo xenon 136 e in questo caso una misura del a 3 sigma dei neutrini del CNO sarebbe possibile con un apparato che ha un'esposizione di 1000 tonnellate anno e una riduzione della quantità di xenon 136 nello scintillatore di un fattore 1000 quindi questi sono numeri ambiziosi che richiedono quindi uno sforzo importante nel caso dell'argon il ruolo che qui svolge lo xenon 136 è svolto dall'argon 39 che però è un nucleo che decade beta con un end point di circa 600 keV quindi lavoriamo nella regione opposta in energia e infatti il caso dell'argon è questo in cui l'argon 39 che è un isotopo prodotto dai raggi cosmici nell'argon atmosferico quindi anche se ridotto di un fattore 1000 comunque andrà a dominare tutto lo spettro quindi dei neutrini solari al di sotto di 600 keV questo implica che in argon la possibilità di misurare neutrini PP è fuori discussione mentre è importante l'utilizzo dell'argon per lo studio di neutrini da CNO e Beriglio 7 e PP quindi che rappresentano come abbiamo visto quindi un modo per studiare la transizione della probabilità di sopravvivenza dal caso vuoto al caso materia e per studiare attraverso i neutrini CNO il modello solare meglio di quanto è stato fatto fino ad ora infatti da un punto di vista statistico quindi su un'esposizione di 100 tonnellate anno quindi è possibile una misura a livello del 6% qual è qual è la situazione attuale allora attualmente abbiamo due apparati sperimentali in funzione con lo xenon liquido uno è l'esperimento LZ nel laboratorio surf in sud dakota e l'altro è xenon nton attualmente operativo qui al laboratorio del gran sasso quindi nel caso di LZ l'esperimento ha una massa di 7 tonnellate di xenon liquido quindi una soglia di un Kev per l'electron recoil e un veto attivo con scintillatore liquido questo è lo spettro prodotto quindi dalla prima pubblicazione quindi nell'estate dell'anno passato questa è l'efficienza del segnale e qui essenzialmente un fit spettrale include il segnale del neutrino solare che è a questo livello rispetto al fondo degli elettron recoil prodotti principalmente dal radon e il numero di eventi di neutrino solare da scattering elastico osservato attraverso questi dati è di 27 eventi su un'esposizione di 60 giorni su 5.5 tonnellate che corrisponde a circa il 10% degli elettron recoil quindi osservati qui tenendo conto che l'analisi non è ottimizzata per lo studio del neutrino solare perché attualmente ci sono altri obiettivi comunque è da osservare quindi che il 10% degli elettron recoil è il segnale di neutrino solare nel caso di xenon nton quindi su una finestra un'esposizione inferiore quindi è un esperimento che ha una massa di xenon quasi simile che prevede un veto attivo con gadolinio disciolto in acqua quindi è comunque in una finestra di energia un po' più ampia da 1 a 140 keV elettron recoil circa l'8% del segnale osservato equivalente a 320 e quello atteso di neutrino solare da elettron recoil dove il fondo dominante in questo caso è prodotto dal radon ed è come avevamo visto dallo xenon 136 che è un endpoint per il decadimento doppio beta circa 2.5 mev al di là di questo il risultato sperimentale attualmente presentato qui al Gran Sasso dalla collaborazione di xenon e Nto è straordinario perché come vedete qui in una finestra di elettron recoil da 1 a 30 keV quindi abbiamo un fondo dell'ordine di 10 alla meno 2 microbecker per chilogrammo che è confrontabile con quello che sarebbe in un certo range il segnale atteso quindi è un risultato straordinario ed è talmente straordinario sia questo che il precedente che c'è un'applicazione particolare da sottolineare e cioè che la possibilità di accedere a energie diciamo basse a livello di qualche keV consente di studiare particolari parametri del neutrino che non sono ancora definiti quali per esempio la possibilità che il neutrino possa avere un momento magnetico diverso da zero ora nel caso che il neutrino quindi abbia un momento magnetico diverso da zero la probabilità di interazione diverge come vedete qui a basse energie perché questa è l'energia diciamo dell'elettrone quindi che è di rinculo e quindi muovendosi verso energie di rinculo basse quindi come abbiamo visto in prossimità di qualche keV la sezione d'urto diverge e quindi la probabilità di avere più eventi diverge anch'essa e tanto è vero che il basso fondo in prossimità della soglia hanno già consentito a LZ a Xeno e a Inton di superare tutti i limiti precedenti per quanto riguarda la misura del momento magnetico del neutrino quindi questo ha testimonianza dell'efficacia di questi apparati sperimentali andiamo adesso ad analizzare l'altro canale di interazione che ha la sua peculiarità perché riguarda quindi gli eventi cosiddetti di nuclear recoil cioè gli eventi isolati dopo la discriminazione del fondo per la identificazione di interazioni da materia oscura in questo caso il neutrino interagisce con il nucleo bersaglio e produce un rinculo questa interazione è vera se vale questa condizione di coerenza cioè se il momento trasferito per la dimensione del nucleo è minore o uguale di 1 ok? se vale questa condizione di coerenza allora il neutrino interagisce con tutto il nucleo e ha un'interazione è una sezione d'urto significativa qui vediamo il confronto di questa sezione d'urto con altre sezioni d'urto di processi quindi importanti quali per esempio l'interazione di un antineutrino con il protone quindi è ben noto avere una sezione d'urto grande quindi tra virgolette per gli eventi di particelle debolmente interagenti comunque vediamo che questa sezione d'urto sia per l'argon che per l'oxenon è maggiore che sezioni d'urto quindi considerate grandi per processi nucleari quali l'interazione di un neutrino su un nucleo di carbonio oppure l'interazione di un neutrino su un protone tuttavia nonostante questa sezione d'urto importante quindi il numero se consideriamo le energie tipiche di questi neutrini cioè dell'ordine 10-20 MeV le energie di rinculo quindi sono al di sotto di 10 KeV quindi il problema qui è che per avere un segnale significativo dobbiamo avere delle soglie estremamente basse e la tecnologia attuale quindi lavora a soglie dell'ordine di un KeV potrebbe lavorare a soglie inferiori e questo è già stato dimostrato attraverso una cosiddetta S2 only analisi in cui viene utilizzato solo il segnale ritardato e non il segnale quindi principale dell'interazione la di questa parte tecnica quindi gli eventi attesi per nuclear recoil perché qui parliamo di nuclear recoil per questo tipo di interazione da neutrini solari rappresentato qui allora innanzitutto osserviamo che per i neutrini PP il rinculo ha un'energia molto inferiore a un KeV nella scala dei nuclear recoil e quindi è fuori discussione la possibilità di misurare attraverso questo canale di interazione i neutrini PP che invece possono essere misurati attraverso lo scattering elastico come abbiamo visto precedentemente tuttavia per i neutrini da boro 8 o neutrini di alta energia quali neutrini F quindi le energie di rinculo sono al di sotto di 4 o 12 KeV nel caso dello xenono dell'argon quindi sono accessibili perché cadono nella finestra di interesse per la ricerca di materia oscura in questo caso il boro 8 ad esempio quindi con un'esposizione di 100 tonnellate anno può essere misurato con un errore statistico dell'ordine dell'1% quindi è accessibile come misura e in futuro con esposizioni più grandi anche i neutrini F che ad oggi non sono stati misurati esistono solo dei limiti superiori per la misura di questi neutrini e inoltre la possibilità di misurare i neutrini del boro 8 a quindi questi livelli di errore statistico è importante come abbiamo detto in precedenza per lo studio della probabilità di transizione vuoto materia del neutrino passiamo adesso ai neutrini da collasso gravitazionale allora questo è un evento che ha una durata di circa 10 secondi e quindi essenzialmente può essere considerato a fondo zero in questi apparati quindi in una finestra di 10 secondi arrivano una grande quantità di neutrini prodotti da qualche parte nella nostra galassia con energie medie dell'ordine dell'ordine dei 15 mev quindi abbiamo visto che queste energie medie di 15 mev si trasferiscono energie sotto ai 10 kev quindi a fondo zero in apparati sperimentali dove i nuclei R-coil sono ben selezionati quindi fondamentalmente questi apparati sperimentali sono tra virgolette ideali per lo studio di neutrini dei collassi gravitazionali ma necessitano di grandi masse qui vediamo il numero di eventi attesi per avere un'idea con diverse soglie sia per l'argon che per lo xenon dove questi sono numeri diciamo che andrebbero ridotti in maniera quasi significativa del 50% in prossimità della soglia per effetto del proprio della efficienza della misura comunque eventi da confrontare con eventi per esempio con i 10.000 eventi attesi in supercamiocande quindi per lo stesso evento di supernova e infine diciamo la osservazione di eventi da neutrino fossile è essenzialmente la stessa quindi lo spettro di energia cambia poco rispetto al neutrino da supernova per effetto della propagazione quindi nell'universo di questi neutrini prodotti quindi nel passato da qualche parte anche al di fuori della galassia e essenzialmente quindi ricadiamo in questo caso di studio ok con un flusso però molto inferiore quindi per concludere vorrei sottolineare brevemente qual è la prospettiva di misura di neutrini solari in apparati invece progettati per lo studio di neutrini da fascio quindi neutrini che hanno un'energia dell'ordine del GEV e questo è il caso per esempio dell'esperimento Dune in fase di realizzazione in Sud Dakota quindi che prevede quattro moduli da dieci chilotonnellate ciascuno quindi qui esplodiamo nella massa bersaglio quindi perché invece che parlare di cento o decine di tonnellate andiamo a parlare di dieci chilotonnellate allora nel caso di un esperimento di questo livello quindi per neutrini quindi da borotto quindi con un'energia maggiore di 5 MeV ci sono due canali di interazione importanti c'è un canale in cui il neutrino elettronico interagisce con l'Argon 40 attraverso un canale di corrente carica producendo un elettrone che è l'oggetto della misura o lo scattering elastico che abbiamo già visto nel caso di scattering elastico un'esposizione da 100 chilotonnellate anno quindi produce quindi una misura a livello statistico dello 0,3% per il borotto e del 6% per i neutrini F quindi diciamo un esperimento di questo tipo consentirà un progresso nella comprensione diciamo della parte alta della probabilità di sopravvivenza o della catena di produzione di neutrini cosiddetta PP significativo in conclusione la possibilità di osservare neutrini da borotto nei presenti apparati sperimentali è fattibile quindi e io spero sinceramente che si possa fare nei prossimi anni i nuovi apparati sperimentali quindi di cui abbiamo parlato sono apparati sperimentali quindi importanti per la ricerca di neutrini da supernova e quindi vanno inseriti nella rete di questi apparati sperimentali per lo studio di neutrini da supernova c'è un ruolo complementare tra l'argon e l'oxenon e in particolare i rivelatori per materia oscura in argon e xenon nella prossima generazione in cui parliamo di esposizioni che vanno da 300 a 200 tonnellate hanno la loro valenza nello studio di neutrini di bassa energia sia neutrini solari che neutrini da supernova grazie per l'attenzione grazie anche ad Aldo ci sono domande in sala oppure da remoto nessuno scrive in sala qualcuno fa la domanda sono anche un limite diciamo il brotto poi diventa un limite per gli esperimenti in materia oscura sulla sensibilità lo scatolo incoerente per ciò che riguarda Dune che tu hai citato giustamente alla fine perché penso che solo il terzo modulo il modulo modulo for opportunity sarà avrà la possibilità di avere accesso ai neutrini solari ai neutrini del boro per questioni di come sono costruiti gli altri due apparati non hanno la possibilità di avere accesso a energie così basse insomma quindi difficilmente sarà sono assolutamente d'accordo dipende dalla quantità come abbiamo imparato anche da Supercamiocante da Snow di Radon che ci sarà complessivamente nell'apparato per raggiungere 5 MeV la quantità di Radon deve essere insomma bassa è una opportunità modulo sempre la gestione del fondo ma questo è vero anche per gli apparati di materia oscura nonostante i bassissimi livelli raggiunti però abbiamo visto che nel caso di LZ ad esempio quindi il segnale del neutrino è il 10% quindi bisogna poi lì c'è un fit spettrale in cui tu vuoi estrarre un segnale che ha un fondo piatto fondamentalmente quindi che non ha nessuna caratteristica particolare un segnale che ha un peso del 10% quindi la riduzione del fondo comunque è importante anche nella prossima generazione di apparati penso che siamo andati ben oltre il tempo limite lascio il direttore per le conclusioni grazie a tutti ho due parole e basta è stato un evento molto interessante e l'ho seguito per tutto il tempo che ho potuto almeno ci ho provato volevo ringraziare chi ha organizzato tutto gli speaker il laboratorio le persone che sono rimaste collegate fino a non con noi fino adesso che ho visto che siano un po' di persone collegate e sono eventi che ripeteremo in futuro mi sembra importante farlo anche perché il mio filo solare fa parte della storia di questo laboratorio ed è importante che noi teniamo in conto che sono storie importanti che hanno prodotto importanti risultati scientifici ma anche diciamo lustro all'attività che facciamo e quindi riconoscere le persone il lavoro va bene grazie a tutti e direi che possiamo chiudere qua grazie a tutti grazie a tutti